Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione Io sono Luca e questo è OneMoreTime Colori perfetti per fare i miei film Questo film, mai dire mai Anche se tu volessi oggi non potresti più rifare Come stai? Come ti salito solo? Sai che lui ha fatto un film per me in cui mentre era sotto continuava a mettersi dietro i capelli ma era uguale Mi aspetto di parlare il più possibile di quello di cui lui non ha mai parlato Io lo vedo molto tormentato sensibile, si emoziona Io voglio entrare in quella parte di rock Non voglio proprio conoscere quella persona che nessuno conosce che è un po' la mia missione personale su di me cercarmi quel tipo di risposte e poterle allargire verso il prossimo Mi hai detto come fai anche oggi che piove che ottobre per essere sempre abbronzato Mi ammazzavo di lampade tanto tempo fa e ho smesso assolutamente di farle e ho cercato un botto di creme autoabbronzanti macchiavano Sto prodotto è pazzesco quindi lo consiglio a te e a tutti Una persona normale le mette una pipetta e tu utilizzi la crema idratante mescoli le fori un colore naturale non ti macchia i vestiti e finché non ti lavi rimani abbronzato non mi macchia neanche il cuscino cioè pazzesco Tornando invece alla puntata di oggi andiamo a parlare con una delle figure italiane viventi più iconiche nel mondo Super superstar e oggi io spero di parlare come dicevo prima con un super super umano Allora speriamo che porti fortuna in questo periodo ci vuole Come ti ho detto è un manuale d'amore quindi sono sicuro che dentro ci sono dei messaggi interessanti Per la prima volta ho deluso mia moglie questo succede quando faccio 40 anni due figli tutto è perfetto non ho mai avuto un problema e per la prima volta deludo mia moglie Quando è che io inizio a deludere mia moglie? Ogni volta che ho cercato di dire cambio non voglio fare più Rocco Siffredi voglio essere Rocco ogni volta la deludo ogni volta che voglio essere Rocco Ti dicevo che One More Time tu hai detto che non hai mai visto una puntata ma non guardo proprio i podcast Ok però più o meno in pre-intervista hai assaggiato come dire l'approccio le corde cioè One More Time se te lo devo definire in una frase ti dico che parliamo dei fatti della tua vita come pretesto per entrare nelle emozioni quindi conoscere il Rocco che tutti conoscono non c'è bisogno di One More Time che possa aggiungere qualcosa ma utilizzare il percorso della vita perché partiremo dall'inizio per raccontarmi come stavi in quel momento come hai affrontato dei momenti belli dei momenti brutti per esempio per me la malinconia e la sofferenza è la mia seconda casa io lì sono sempre riuscito a fare il level up di tutto perché quando sono troppo felice io non so stare nella felicità è troppo quindi mi sento molto a disagio molto inadeguato quando ero ragazzino spendevo un sacco di soldi quando ero felice perché mi premiavo ma per cosa? e quindi nella malinconia sei molto più umile perché dici se sbagli un colpo mi faccio male quindi non ho niente riparto da lì e da lì riparto sempre quindi vorrei non ti voglio portare nella malinconia mi viene da ridere perché nella malinconia ci vivo quindi ma io sono attratto da te perché ti sento molto tormentato come me e quindi le persone tormentate sono dei vulcani in eruzione e quando esplodono soffrono tanto perché non sanno gestire le emozioni allora mi piacerebbe farmi un piccolo rollercoaster gentile lì dentro quindi partiamo dall'inizio partiamo dall'inizio vuol dire raccontami quando sei nato in che anno quindi quanti anni hai in che città e soprattutto in che contesto familiare poi da lì ci avviciniamo al giorno d'oggi ti farò io ovviamente delle domande aprirò delle parentesi vai Tano Rocco Antonio Antonio perché questa non la conosce nessuno ma in realtà io mi chiamavo Tano Antonio però lo zio Rocco qualche giorno dopo che ero nato lui ha deciso di passare altra vita per amore quindi si è suicidato mia madre è tornata al comune fatto cambiare il nome ha fatto mettere Rocco davanti a Antonio quindi fratello di tua mamma si fratello di mia madre quindi niente sono stato chiamato Rocco proprio per lui però Antonio era rimasto infatti mio fratello più piccolo si chiama Antonio infatti poi c'è tutta una storia dietro il nome quindi nasco a Ortona Abruzzo c'è una storia perché poi da bambino tutti mi chiamavano Rocco la Marroc che vuol dire la pannocchia io mi ricordo che dicevo a mamma mi arrabbiavo tanto cioè in maniera dispregiativa te lo dicevano sì la pannocchia Rocco la pannocchia mia madre una volta mi disse al prossimo bambino che ti chiama Rocco la Marroc tu digli ti è una bella Marroc mezza la corsa per te per mamma per sorte io questa battuta l'ho portata a teatro proprio perché nel momento in cui racconto la mia vita come la sto raccontando a te c'era questa parte qui in cui dico da bambino tornavo a casa piangevo ce l'avevo con mia madre ma perché proprio a me hai dovuto mettere questo brutto nome poi a sapere che questo nome invece è diventato molto alla moda molto usato insomma mi hanno anche detto che qualcuno ha dedicato il nome Rocco al proprio figlio pensando a te pensando a me e poi è un nome che non ti dimentichi quindi soprattutto all'estero e poi è corto quindi non lo storpiano mai no? no fratelli sorelle raccontami intanto come si chiama tuo papà? Gennaro mia madre Carmela i miei fratelli erano Mirella la femmina poi c'era la più grande sì poi c'è Giorgio Armando Claudio che purtroppo muore a 12 anni io e poi mio fratello Antonio non so la realtà però mi dicono che io sono nato in mezzo a due bambini morti questa è una cosa strana cosa vuol dire che eravate gemelli? no no cioè mamma ha perso un bambino e poi ne ha perso un altro prima dell'ultimo quindi questa roba è qua e comunque mio fratello Claudio è morto che io ho 6 anni lui 12 parliamo subito di questo ma poi volevo parlare di un'altra cosa che succede a tuo fratello? io ti farò tante domande quando non ti va tu mi dici non voglio risponderti no 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 tanto voglio dire mi hanno dedicato una serie e tutto è lì mio fratello da bambino anche qui lui è morto con attacchi epilettici mentre dormiva è stato è stato svegliato e non si è svegliato l'hanno trovato morto l'ha trovato morto io credevo mia sorella invece poi ho saputo che era mia madre quindi voglio dire quello che mi ricordo io è che da bambino nelle case popolari tra bambini gli hanno dato una botta in testa con una mazza di ferro e lui aveva appunto questo versamento a livello celebrale però non non era curabile per quel periodo mia madre ha fatto ospedali Roma Bologna Milano gli hanno detto se ce la fa passare lo sviluppo dei 14 anni sicuro non ce la farà quello dei 18 e invece è morto addirittura a 12 anni tu all'età di 6 anni come hai vissuto quel lutto nel senso quanto capisci a quell'età ma io se tu mi dici Rocco quali sono i tuoi ricordi d'infanzia io ti dirò il giorno in cui sono tornato a casa dall'asilo e vedo mia madre che strilla alla finestra del balcone e vedo mio padre giù che arriva con la vespa vestito da cantoniere e che guarda su queste sono le immagini guarda su e mi ricordo che si mette la mano davanti agli occhi poi c'era movimento dentro casa io non capivo vedo mio fratello sraiato sul letto tutta la gente che piangeva e c'era un compleanno che era avvenuto qualche giorno prima quindi c'erano dei palloncini io mi ricordo che sentivo le grida di mia madre e allo stesso tempo io in questa stanza esplodevo tutti i palloncini per la rabbia però non è che sentivo però sentivo dentro di me che qualcosa mi stava facendo male che mia madre soffriva e quindi mi sono messo a rompere tutti questi palloncini poi c'era mio fratello più piccolo che vedevo che correva nella stanza e veniva mandato via correva prendeva dei confetti lui aveva già dei confetti sai all'epoca si mettevano dei confetti non mi chiedere perché ok ma da un punto di vista curativo intendi? no era proprio scaramantico si metteva dei confetti sul corpo io mi ricordo di questa scena cioè per me l'infanzia parte da lì se tu mi dici cosa è successo prima non mi ricordo nulla parte da lì adesso ci torno tua mamma figlia 16 fratelli e sorelle giusto? incredibile e suo papà muore a 46 o 48 tra i 46 e i 48 anni ha avuto 16 figli 16 dalla prima moglie wow e poi ha avuto altri figli da un'altra relazione si 8 altri figli e quindi tua mamma ha replicato questa famiglia numerosa perché voi siete tantissimi noi ne siamo eravamo 6 poi in realtà ho tantissimi cugini parenti così c'era proprio questa mio nonno vabbè faceva l'allevatore di tori da monta è surreale ma è la verità è stato ucciso da un toro mentre con due figli cercava di rinforzare queste catene perché all'epoca facendo i tori da monta c'è stato il periodo di magra di vacche e quindi non arrivavano più queste vacche quindi il toro faceva in abruzzese si dice il sangue nero cioè facevano la rabbia e quindi mentre cercava di rinforzare queste catene il toro ha rotto le catene e l'ha incornato se l'ha portato giù per le campagne l'ha perforato giù per le campagne era un macello io faccio una sola domanda ricorrente in tutte le interviste ed era come eri messo a coccole e dentro a questa domanda c'è se ti sentivi amato come ti amavano se ti fisicamente ti toccavano ti accarezzavano ti baciavano ti facevano sentire importante non è obbligatorio coccolare un figlio per farli no no è obbligatorio è obbligatorio io sono stato educato così e io lo faccio con i miei figli però le culture dei nostri genitori comunque erano differenti no? quindi ci sono tanti genitori che magari hanno avuto genitori anche loro un po' anaffettivi hanno replicato quel modo di dare amore lo facevano più con i fatti come eri messo a coccole? allora a coccole malissimo per il semplice motivo che avevo una mamma che stava troppo male quindi mia mamma non è che veniva dopo la morte di tuo fratello eh sì io mi ricordo solo della morte di mio fratello è possibile che prima della morte di mio fratello mi abbracciasse non me lo ricordo ma ho dubbi sai perché ho dubbi? perché mio fratello che stava male ha preso per intero la vita di mia madre nel senso che mia madre andava in giro negli ospedali e a me mi ha cresciuto un po' credo mia sorella questo è quello che mi dice lei quindi in realtà credo che mia madre si fosse focalizzata tanto su di lui e quando è morto mio fratello purtroppo le coccole ancora cioè se ne ho avute poche forse poi era concentrata su cose diverse sì cioè ti posso dire il primo anno che è morto mio fratello mamma metteva il piatto di pasta sul tavolo come se fosse ancora lì sì no tra un po' arriva e mio padre capisci basta 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 quindi poi non mangi non mi piace quello non era la reazione ti faccio qualcos'altro più cioè era tutto molto impulsivo di rabbia ma di rabbia con la vita non verso di me verso se stessa è quasi come per dire perché c'ho questa sofferenza perché devo soffrire così tanto e quindi io l'ho sempre vista mamma credimi mia madre non è che per dirti lo dico però quando mi voleva punire ma non a punizione sadica però mi faceva gli orologi sui polsi mi è stato che ti mordeva mi mordeva i polsi mi rompeva i piatti in testa mi rompeva le forchette di legno addosso semplicemente perché io non volevo mangiare dei pezzettini di pomodoro facevo tutti i contorni sul tavolo sul bordio e lei era era impulsiva era molto irascibile molto irascibile cioè lei era il pilastro di casa mio padre non mi ha mai dato uno schiaffo mia madre era ma non gratuitamente era sempre basta basta boom però poi magari io non ho mai odiato cioè io non ho mai visto in mia madre una persona sbagliata ho visto in mia madre una persona estremamente sofferente ok e il mio sogno è sempre stato quello di dentro di me da bambino di cercare di alleviare queste sofferenze a mia madre questa è veramente la base della mia vita da sempre io ho sempre cercato di in qualche modo di orientare tutta la mia vita in quella direzione io non ho mai pensato voglio fare l'attore voglio fare il cantante voglio fare io voglio alleviare il dolore di mia madre questo è stato il mio unico obiettivo di vita da bambino tu devi sapere che io andavo a pulire le spiagge a nove anni papà mi portava giù con la respetta mi lasciava là tutto il giorno a periodo estivo ma non solo gli anni in cui studiavo ancora alle medie piuttosto che poi ho studiato alle naip è un titolo statale che ti danno perché avevo lo zio che mi aveva promesso che mi faccia entrare la SIP questo alle superiori sì alle superiori tutte le volte cioè i tre mesi estivi per me erano il manovale era il bagnino pulire le spiagge il bagnino già è figo poi imbarcato sulle navi sono andato imbarcato come mozzo giovanotto di macchina e poi sono tornato Parigi perché ho mio fratello lì e ho detto dai perché comunque avevo questo pensiero fisso di voler diventare porno star ma quando a 12 anni a 12 anni quando la sessualità mi ha completamente preso ma la sessualità mi ha salvato ma veramente mi ha salvato perché io oggi a 60 anni ecco ho dimenticato di dirti ma hai detto di mille età a 60 anni ti assicuro che quando vado dietro e mi faccio un'analisi vera di tutto quello che mi succede nella vita io ho dei fan che mi dicono Rocco tu sei un personaggio con veramente mille sfaccettature cioè non ti si riesce a identificare ti credo uno che sceglie di fare il porno star che è già un mondo a parte che però è abruzzese adesso non voglio dire abruzzese nel senso che se ero milanese scusami ma non sarebbe cambiato niente sarebbe cambiato era proprio un'epoca dove era un tabù incredibile tabù surreale però voglio dire nato con dei valori dove ti insegnano dove tu vedi che poi lo step successivo tocca a te farti la famiglia e tutto il resto scegli di non fare quella vita lì perché dici è troppo forte l'impulso io devo fare quell'altra vita oggi mi domando e ancora me lo chiedo è stato l'impulso di voler fare il porno come libertà per evadere da tutto quel dolore è stato l'impulso di scegliere il porno perché sapevo che nel porno ma non credo perché avrei pagato per farlo e non c'erano i soldi quindi non so perché poi alla fine io ogni volta che ho deciso di smettere di fare sesso la sofferenza torna dieci volte persa quindi era una terapia io me la vedo un po' come una vera terapia tu hai detto io volevo alleviare le sofferenze di mia mamma quindi in un certo qual modo volevo farle mie per far sì che lei potesse sorridere potesse vedere la vita più a colore rispetto a come la stava vivendo come facevi? cioè come si fa a sei anni otto anni dieci anni quattordici anni perché comunque vivi a casa fino a che età? come si fa? si fa che se tu hai una coscienza che ti porta a percepire quella sofferenza non c'è età cioè tu puoi avere però che azioni facevi per andavo fuori io non dicevo a mia mamma voglio stare con i miei amichetti a giocare giù nelle case popolari io mi ricordo che a undici anni andavo alla stazione mi mettevo in fila per prendere i blocchi di ghiaccio per caricare nei treni frigorifero all'epoca si scaricavano dal camion dei blocchi sulle spalle si buttavano dentro i treni frigoriferi e mi ricordo che mi mettevo in fila perché ero già alto ero già un ragazzo tipo mio figlio che è bello alto e quindi mi sceglievano e andavo là e io ero contentissimo di portare due lire a casa si fa solo così cioè leviavi la sofferenza anche aiutando in quel senso materiale me lo stai dicendo per questo? ma è certo perché a casa e c'era bisogno? ma sì perché purtroppo ecco il 27 che è il giorno dello stipendio era il giorno più bello perché arrivavano i soldi ossigeno però dopo 15 giorni già tu usavi quei soldi perché doveva pagare certi debiti dal macellaio da questo e tu arrivi a metà mese io mi ricordo che mia madre mangiava i nostri avanzi e mi diceva che non aveva fame tu devi sapere che c'è stato un periodo nella mia vita in cui io mangiavo i bianchi d'uovo perché volevo fare palestra volevo crescere con i muscoli e buttavo il giallo perché si diceva che era colesterolo ritrovo tutto questo degame di gialli e mia madre pur di non buttarli se li mangiava tutti mia madre è morta con una come si chiama la malattia al fegato tipo cirrosi epatica senza mai toccare alcol cioè si è distrutta completamente proprio si è mangiata il fegato per le sofferenze sofferenze si sofferenze e non faceva attenzione a nulla tutto quello che sia quindi per me era una sorta di ma come si fa cioè quindi voglio dirti ma questo quanto anni avevi quando è successo quando è morta tua mamma mia madre è morta il 15 marzo del 91 e io ero dovevo partire negli Stati Uniti mi ricordo perché già ero già avevo cominciato a frequentare negli Stati Uniti come attore hard e mi ricordo che mia madre mi disse se parti mi porti i fiori mamma basta 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 non ti volevo sentire più però la vedevo gialla era strano un colore strano mia madre aveva 63 anni esattamente ero partito diciamo subito dopo Capodanno e il 15 di gennaio mia sorella mi chiama e mi dice guarda devi tornare tua madre è in ospedale e sta molto male sono tornato perché ero l'unico non sposato quindi mia sorella mio fratello quindi mi sono fermato due mesi a Ortona in ospedale e sono rimasto con lei all'inizio stavo con lei la mattina poi rientravo poi si è aggravata sempre di più si è aggravata sempre di più e quindi sono rimasto con lei il periodo più brutto in assoluto sono state le ultime tre settimane cui lei purtroppo aveva queste vene del collo che lì si rompevano proprio per via della malattia e sanguinava sanguinava lì si riempiva lo stomaco e io dovevo prendere l'asciugamano alle 6 di pomeriggio e alle 6 di mattina era ogni 12 ore fisso vomitava tutto sangue vivo mettevo il sangue l'asciugamano lo portavo fuori piangevo fuori dalla stanza tornavo dietro e gli dicevo mamma tutto a posto non ti preoccupare tutto a posto ma la cosa più brutta in assoluto dove veramente sono stato male 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 è quando mia madre a un certo punto non mi riconosce più allora io la stringo l'abbraccio mamma 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 e lei mi morde mi morde e mi graffia mi morde e mi graffia e dico non è possibile mamma sono Rocco mamma Rocco e lei continuava a mordermi io ho detto ma cosa diventiamo cioè che roba è mia madre si è si è dilaniata per i figli cioè mia madre ha veramente sofferto per i figli come è possibile che non mi riconosce devo dirti quando è morta mamma 6 di mattina io ero sul corpo di mamma con la mano e sento un gelo terribile proprio un freddo ho detto mi sto ammalando e ero convinto che mi stessi ammalando perché giorno dopo giorno e la signora l'infermiera arriva e mi dice Rocco tua mamma è andata via non te ne sei accorto gli ho detto ma come è andata via mi fassi purtroppo è morta e quella roba lì è stata incredibile nel momento in cui mia mamma è morta io ho avuto un relax incredibile forse perché sono stato due mesi con lei due mesi vederla soffrire mi ricordo i miei fratelli sono tornati a Parigi stavano malissimo chi piangeva a destra chi a sinistra io ero relax perché è come se avessi visto come se il fatto di stare con lei tutto questo che lei smetteva di soffrire e tu ti sei acquietato un po' sì però poi in realtà mi sono sempre augurato nella vita questa sofferenza anche dopo? no no e questo è il problema il problema vero mio della mia vita reale di oggi è che per qualche motivo non ho mai voluto comprendere il perché è toccata a mia madre tutta questa sofferenza e quindi ho sempre chiesto Gesù in una sorta di Gesù per quello che per me vuol dire Gesù l'identità che secondo me esiste ma non non voglio fare il cattolico a come si dice quando ti serve per quello che ho sempre pensato io nella fede la fede tua la fede mia personale senza dover frequentare la religione frequentare la religione in nessun modo e ho detto se esisti se c'è qualcosa di reale fammi condividere tutto ciò perché non lo trovo giusto ma solo per questo me lo sono augurato augurato da sempre e devo dirti che so che forse ho sbagliato non è che dico mi sono pentito perché però c'è qualcosa in tutta sta storia che ancora oggi non riesco a trovare i punti perché io ho portato la foto di mia madre fino all'isola dei famosi dove ho fatto nel 2016 ho fatto l'esperienza dell'isola mi chiesero Rocco cosa vuoi portarti cuscino ho detto la foto di mia madre è garantito perché io prendo la foto di mia madre oggi è davanti il mio letto a Budapest ma non la porto a Milano nell'hotel mai prima lo facevo sempre prima quella foto partiva con me in tutto il mondo la mattina quando mi sveglio la sera prima di andare a dormire la baciavo per me l'identità di mia madre non può essere un'identità non può essere tua madre ti ha messa al mondo e finita lì no mia madre mi ha messa al mondo ma non è perché è morta non esiste più e nella mia testa questa roba qui c'è chi dice guarda che tua madre non è contenta che tu stia soffrendo così per lei e durante l'isola è avvenuto il primo momento in cui ho avuto questa sensazione cioè tua madre vuole che ti tranquillizzi è avvenuto nel 2016 però poi in realtà non mi sono mai tranquillizzato sono peggiorato nel tempo molto peggiorato nella sensibilità cioè io sono in tv e vedo dei bambini morti in spiaggia inizio a piangere da solo e questa roba qua è molto complicata da gestire è molto molto complicata mi si fa vedere mia moglie tutto l'amore che questa donna per me e ho delle rotture e lei anche i ragazzi diventa molto complicato da gestire allora non capisci più ma che ti succede perché ti sta insensibilizzando sempre di più e quindi mi dico vabbè allora cerchiamo di coprire o cerchiamo di di non far vedere però in realtà non ci riesci sempre tutto molto complicato devo dirti su questo lo so che ti porto sempre troppo avanti ti do il filologico ma mi interessa finisci ti porto sempre avanti ma ultimamente è come se non lo so se è l'età dicono l'età esperienza di vita fai conti con tutto quello che hai fatto nella vita non so cosa sia ma è un turbine di sensazioni emozioni difficoltà la parola essere melanconico io ci sono nato perché mi ricordo da sei anni da quel giorno in cui è morto mio fratello melanconia non mi ha più mollato mi dicono tutti hai un fondo di tristezza me lo dicono da sempre sicuramente è così però la felicità quella che tu chiami oggi felicità non so più neanche come si scrive sono contento oggi sto bene ma felice per me è una parola prima tu hai parlato di felicità io la felicità veramente l'ultima volta che l'ho avuta lo sai quant'è? reale felicità quando è nato mio figlio Lorenzo mia moglie matrimonio ce l'ho fatta poi nasce il secondo figlio incredibile e tutto quel periodo per me è la felicità sai cosa penso? io credo di aver ricevuto amore dei miei genitori mio papà aveva 26 anni in più di mia madre non c'è più era molto duro nel senso che quando io sbagliavo prendevo le botte da mio padre perché suo padre l'ha educato in quel modo quindi non è che fosse cattivo era l'unico modo per dire se non lo capisci parlando te lo devo spiegare in un altro modo no? e io credo di essere cresciuto nell'ansia e nello stress e questa cosa fa così parte di me che nella vita l'ho sempre ricercata e mi sono andato spesso a mettere in delle situazioni tossiche perché stavo bene lì dentro perché mi ricordavano il modo in cui io ero cresciuto ma non per colpa di qualcuno io nella mia comfort zone erano cose complicate e quindi io che sono terrorizzato dalla noia quando tutto andava bene mi annoiavo perché io ero abituato ad avere queste frizioni emotive non positive però io stavo bene lì era quella la malinconia che io chiamavo casa però si può rompere la catena e rompi la catena solo quando ne sei veramente consapevole metti un'etichetta ti guardi io per esempio avevo un vizio io ero ludopatico e come una persona che fa uso di stupefacenti o di alcuni o di qualsiasi cosa finché non se lo dice veramente anzi finché si innervosisce quando qualcuno lo dice a lui vuol dire che è completamente dentro finché si giustifica è dentro ma quando si guarda e se lo dice allora lì c'è una way out e io lì ho detto io non posso vivere così perché muoio giovane perché trasmetto queste vibes schifose a chi mi ama devo uscire da questo loop e l'ho fatto con l'analisi l'ho fatto con l'analisi quindi facendo un percorso che si chiama Lofman tanti anni fa ma poi analizzandomi io tutti i giorni se io arrivo a casa arrabbiato non cerco mai il colpevole ma chiedo a me stesso vai a ritroso sulla giornata perché a volte magari uno non ti saluta e tu dici cazzo ma questo non mi rispetta non mi dà valore fai i tuoi film lui non ti ha semplicemente salutato ma poi tu hai dato l'interpretazione a quella cosa e ti porta in degli stati d'animi terribili e io mi chiedo spesso cosa è realmente accaduto questo momento che è accaduto assomiglia a un altro momento della mia vita e cerco di pulire quella cosa lì molte cose le ho pulite in due maniere accogliendomi quindi non sono sbagliato c'è quella cosa fa parte di me se fossi depresso direi sì sono depresso non sono arrabbiato oggi sono depresso e adesso lavoro su quello e con il perdono di me stesso e delle persone che non erano compatibili con me non è colpa degli altri se io soffro sono io che non sono compatibile con le persone quindi ho il diritto di uscire da quella vita lì io ti dico questo perché vado alla fine ma poi ritorno all'inizio perché stiamo andando un po' veloci io ho visto un tuo servizio alle Iene poco fa e io soffrivo per te perché ti ho visto dove tu entri in un momento in cui non gestisci le emozioni e ti arrabbi tantissimo vai molto oltre a quello che avresti voluto dire e fare e poi ti dispiaci tanto quindi ti logora quel dispiacere e quando ti ho visto parlo della giornalista Lisa Toaf ok quindi quella cosa comincia con un'interlocuzione tra due esseri umani tra te e lei e poi prende una piega e quella piega quando uno ti tocca la corda sbagliata sempre per la malinconia sempre per la tua emotività non gestisci più quindi schizzi alle stelle poi ti dispiace perché dici cavolo ho esagerato cosa ho fatto e io lì ho letto il tuo tormento io lì ho detto io voglio intervistarlo io voglio parlare con lui perché se lui ha 60 anni ha questa cosa dentro può risolverla e rompere la catena guardarti dirti vivo uno stato depressivo vivo uno stato di non lo so io non sono uno psicologo qui non sono in grado ovviamente di dirti questo sono in grado di raccontarti di me ma non di darti dei consigli però è guardarti dentro e anche se c'è una brutta notizia l'informazione per stare meglio il fatto che tu mi dica l'ultimo momento di felicità è stato matrimonio e il consecuzio tra la nascita dei miei due figli che immagino che siano le figure più importanti della tua vita almeno da come ne parlavi anche per intervista e quando vai nei programmi televisivi con loro si vede che sei proprio cioè sei il loro zerbino ma non perché sei debole perché li ami perché gli vuoi dare tutto quella cosa che amo di più bravo e si vede tantissimo però questo conflitto emotivo che tu hai dentro di te un giorno ti può fare sbarellare e fare una cosa tremenda perché perdi il controllo sei stra pericoloso con te lo so oltre che con gli altri quindi devi conoscerti e devi amarti per quello che sei perché tu sei così e non sei sbagliato sei semplicemente così perché se te ne fai una colpa vivi malissimo quella cosa no ma allora tutto quello che non so se sono stato chiaro super chiaro allora ci sono 3-4 punti che tu hai toccato che io già ho messo a posto cioè il fatto di volermi bene l'ho messo a posto qualche anno fa quando si freddi si freddi e Rocco erano due identità all'interno di me una scalciava sull'altra e poi alla fine lì ho capito che il vero problema era accetta tutte e due le persone e quando ti dico accetta tutte e due le persone mi devi capire cioè non è facile uno che decide di fare il porno star e poi decide di fare anche il padre di famiglia e vuole farlo vero padre di famiglia non di quelli che lo fanno per sport così lo faccio lui che è presente attento reale cioè per me la famiglia così come lo me l'hanno insegnata è dal momento in cui la metti in piedi diventi responsabile e devi assolutamente proteggere i familiari questa è la base e quindi per me questo è l'ho capito fatto di volermi bene l'ho messo a posto problema più grande dove tu hai visto quel momento di totale problematica io venivo ma non è una scusa venivo da due mesi di promozione di una serie sulla mia vita e non è la serie sulla vita fiction di qualcuno ma è la mia vita la famiglia tutto quello che realmente ti appartiene mi appartiene ma soprattutto persone che stanno ancora oggi molto male e che io ho raccontato senza risparmiarmi contro il volere di alcune di quelle persone a cui ho fatto male vuoi o non vuoi ho fatto male ad alcuni familiari semplicemente per raccontare la mia vita però io non potevo non raccontare quei momenti hanno fatto parte della mia vita e quindi è come se tutto un tratto tu dici ah hai raccontato e quindi magari già si è andato a ritirare fuori dolori anche loro momenti difficili due questi ricordi ti tornano a te e ti tormentano e devo dirti che io vivo e convivo con i demoni e questo è il mio vero problema cioè io questa roba qui che faccio di giorno mi si amplifica tre volte per di notte cioè tutto quello che è la tutto quello i miei tormenti del quotidiano la notte si amplificano e quindi diventa ancora più complicato ed è per questo che dico due mesi di promozione in cui mi chiedevano di ridire di riconfermare ma quella è una storia vera ma tuo fratello come sta adesso allora sapendo che mio fratello non si sa come sta ed è mio fratello ed è una persona a cui voglio tanto bene dentro di me mi logora mi logora quella storia lì mi logora la storia di mia moglie alla quale esce fuori una giornalista alla quale ho voluto fare un favore però per fare un favore mi ritrovo da deficiente a mandarla a fare in culo questo è successo perché mi ha dedicato un articolo sbagliato e io mi ritrovo all'interno di una notte in cui camminavo per strada esattamente sull'Aurelia volevo farmi ammazzare ti dico la verità ci andavo in mezzo alla strada perché ero perso quella notte lì delle Iene ero perso perché mi dico ma è possibile che sono così deficiente cioè ogni volta riesco a mettermi nei guai senza motivo poi il motivo qual era io ero con questa donna in hotel davanti alla alla reception abbiamo fatto l'intervista ma mi è capitato un milione di volte di avere delle occasioni in cui una giornalista una donna chiunque andiamo a fare sesso ci avrei pure detto ok andiamo a fare sesso e ti mettevi nei guai manco succede quello cioè sono super cool ho fatto tutto in maniera impeccabile e alla fine ti ritrovi con sta patacca in faccia in cui tutta la notte sai come si è successo quella notte erano dieci anni che mia moglie non piangeva dieci anni l'ultima volta che mia moglie ha pianto è quando gli ho detto amore in un anno sarò uscito con non lo so mille prostituzioni mia moglie è cascata per terra mi ha detto tu hai bisogno d'aiuto tu parlai prima di persone che ti hanno aiutato persone analisi io non so manco come si scrive analisi mi sono sempre detto se vado a fare un'analisi mi metteranno fuori da quello che mi piace di più il porno è vero che hai sbagliato il pensiero perché non succederà quello però psicologicamente mi sono sempre detto anche perché poi decidi tu della tua vita decidi tu però concludo mia moglie piange tutta la notte ok io ce lo affianco piange non smette piange ma piange da dentro non piange da fuori si inghiozza e non riesce a resistere e allora tu dici quando smetterò di fargli male ma allora quella famiglia forse era sbagliata per me forse non me la merito e tu quando cominci a metterti tutta questa roba in testa ha voglia a dire mi amo mi amo ma che ti ami c'è qualcosa più forte del tuo amore che ti spinge a metterti alla prova ti spinge sempre di più io non ho mai pensato mai l'ho sempre tolto dalla mia vita l'idea di toglierti la vita perché ho sempre detto togliersi la vita ci pensa qualcun altro non hai bisogno di farlo da te c'è sempre una soluzione sempre 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 ecco il periodo in cui stiamo parlando di quest'anno sì in cui due tre volte ma senza pensarci però speriamo che cade l'aereo speriamo che mi prende uno non che lo faccia io ma non perché non ho coraggio perché sarebbe una mancanza di insegnamento per i miei figli però avevo voglia veramente di scomparire la verità perché mi sono detto non riesco a farne una come si deve perché ti senti inadeguato credi di non avere come dire di non essere giusto per stare in questo mondo no perché è come se è come è come se mi viene da ridere perché quando mi hanno dedicato la serie ho detto probabilmente la serie mi porterà sfiga ad oggi sì quindi ti dico ad oggi da quando ho firmato per questa serie solo una ecco una serie di sfiga una dopo la io le chiamo sfiga adesso tu le chiamerai probabilmente in un altro modo probabilmente sto ancora cercando di capire come gestirmi in tutto ciò però tu prima hai detto un'altra cosa molto importante sembra che tu possa vivere solo nella sofferenza mia moglie lo sai che mi dice tanto tu non riesci a vivere senza soffrire se tutto va bene farai qualcosa per rovinare tutto e questo è quello che sta venendo fuori questo è quello che sto vedendo sempre di più ti parlavo all'inizio della felicità io spesso quando vivo un momento bello per autenticare la veridicità del momento chiedo alla vita di far succedere una cosa brutta per equilibrare o per dirmi sta veramente accadendo la cosa bella e quando arriva la cosa brutta perché la trai annienta la cosa bella e io poi dopo alla fine se va tutto bene mi metto nel perimetro del negativo però questo è un loop che si può interrompere questo è un loop che si può assolutamente interrompere perché ripeto è molto radicato nell'infanzia perché tu sei stato abituato a fare delle sofferenze degli altri della persona che ti ha messo al mondo di tua madre le tue sofferenze e le hai fatto crescendo da quando eri piccolino eri una spugna a sei anni eri un cucciolino non avevi la possibilità di fare questi ragionamenti e tu ti senti a tuo agio lì dentro quindi quando va tutto bene tu cerchi quelle situazioni ti annoi cerchi situazioni tossiche che non sono tossiche le rendi tossiche perché tu sei a casa lì dentro ma non ti dico che non sei normale ti dico che si può risolvere perché lo sto facendo su di me da diverso tempo sai cosa ho qualche difficoltà a seguire oggi se tu apri social adesso parlando di social troverai un milione di persone che ti dice non seguire la negatività perché attrai negatività segui la positività perché poi cominci a pensare credo di qua credo di là cioè io ho bisogno di ritrovare me stesso più che di non so come dire certamente la vita va vissuta nel sole e secondo me è quella la parte importante sentire la vita a volte tu guardi qualcosa e dici che brutto guardi la stessa roba con lo stato d'animo diverso che bello però prima tu hai detto una cosa hai detto io non so manco come si scriva analisi perché io non ci sono mai voluto andare questo tu hai detto a me perché pensavo che mi avrebbero impedito di fare quello che è la mia vita io quando ero un ragazzino sono del 76 e c'era l'AIDS quando io ero un adolescente e io mi cagavo sotto di fare gli esami e quindi dicevo non li faccio gli esami starò più attento la prossima volta e con questa fissazione di non avere una brutta notizia avrei rischiato vabbè oggi le cose si possono ovviamente affrontare e risolvere un tempo era una sentenza sì sì chiaro e quindi rimandavo e questo l'ho fatto per tanti anni della vita dico non faccio gli esami in generale non voglio sapere se c'è una brutta notizia mentre invece oggi sono diventato quasi fobico al contrario perché avere l'informazione è una preziosissima cosa che ti permette di agire quindi il fatto che tu non abbia voglia di entrare in quelle vibes dove uno ti dice sai che c'è? sei così ma se tu lo sai è da lì che riparte il tuo one more time è dove tu riparti esattamente da lì perché se tu ami i tuoi figli e tua moglie penso ma hai parlato prima anche dei tuoi figli più di qualsiasi cosa al mondo loro che vedono un padre tormentato così possono fare due cose vivere quello che tu hai vissuto con tua madre quindi farsi loro le tue sofferenze e insegnare loro che il perimetro della serenità è la sofferenza no no ma hai totalmente ragione non ho dubbi infatti c'è mia moglie che fa da paracolpi sì fa da paracolpi e devo dire è una donna fantastica io il mio unico problema grave lo sai qual è grave nel senso reale è che non riesca a nascondere più le emozioni uno può avere un momento di contentezza o di diciamo down depressivo quello che vuoi e in realtà quando ho il down depressivo vado via vado a correre faccio sport faccio qualcosa per sfogare però poi alla fine traspare lo vedi io quello che dicevo prima se sono seduto e vedo un'immagine in tv dei bambini morti ricordi quell'immagine di quel bambino con la maglietta rossa sulla spiaggia io pianto ma anche c'è un'immagine che è qualcuno che ha ammazzato una ragazza allora tutti pensano poverina questo bastardo a me la testa lo sai dove mi va ai genitori di quello là dove hanno sbagliato quelli quel ragazzo comunque 25 anni pure lui 20 anni comunque c'è dolore dentro casa comunque c'è una catastrofe e allora ti metti lì e cerchi di capire il mio problema è che sono troppo empatico con queste cose qua dovrei lasciare più andare invece mi comincio a creare mille problemi per i miei figli per mia moglie cioè tu adesso uno vedi da fuori e dici freddi porno star grande carriera e però quando tu torni a casa tutte le sere c'è tua moglie che ti aspetta a me quando mia moglie va in tv e dice no no ma il lavoro di mio marito io lo conosco è un lavoro ma quanto è brava a dire questo però io la guardo negli occhi e vedo che invece dentro di lei ci sono stati anni e anni e anni e anni è dura è dura è dura quella roba lì se tu la vivi e se ti frega qualcosa di quella persona ti logora se invece tu te ne sbatti sei un egoista dici sono cazzi tuoi mica te l'ho obbligato io di metterti con me cioè a quel punto è diverso ecco qui è tutto cioè i punti sono solo quelli se io fossi fossi stato un pelino più menefreghista secondo me soffrivo un po' di meno non lo so quello che ti dicevo che secondo me c'è anche un'altra via oltre che subirlo emotivamente proprio perché ti interessa e ti dispiace che è quello di guardarti dentro e provare a capire se quello che fa stare male lei sono delle informazioni importanti per te per cambiare qualcosa però cambiamo discorso torniamo indietro molto indietro e torniamo ai tuoi genitori cosa ti hanno insegnato dell'amore e la mia domanda ha una finalità molto precisa la fedeltà nel senso tu hai aperto una parentesi sulla prima volta in cui Rosa pianto e mi volevi dire che la seconda volta era quando era accaduto il fatto di cui abbiamo parlato ma tornando indietro tuo papà e tua mamma che cosa ti hanno insegnato dell'amore cioè che tipo di amore vivevi guardando loro due era una coppia fedele come funzionava l'amore nel tuo nucleo tutto ritorna sempre all'io non ho mai visto mio padre e mia madre darsi un bacio quindi non vedendo mai i miei genitori darsi un bacio perché erano molto magari pudici o molto avevano un po' di difficoltà a farlo davanti a noi e comunque sia so che mia madre ha amato solo mio padre questo troppo solo lo so mio padre era mio padre era io ho preso un po' da papà quella parte un po' più aperta libertina non tanto libertino però era uno che gli piacevano le donne quindi insomma non è che faceva che ne so ma tu come fai a saperlo? cioè cosa avvertivi quando eri piccolo? quando eri adolescente? ma avvertivo una gelosia fortissima di mia madre e lui che faceva il gallo con tutte le donne che incontrava faceva molto il galante molto il galantuomo faceva ingelosire molto mia madre però storie più di quello non l'ho sentita poi non lo so quindi cosa hai tratto da quella cosa? che l'amore quello solo la monogamia quindi solo un uomo una donna è una cosa che non esiste perché già non l'hai vista fare da tuo padre perché avevi la percezione che potesse fare anche vivere delle situazioni parallele non lo so no io non ho mai avuto l'insegnamento guardando i miei genitori di quello che doveva essere poi il rapporto tra uomo e donna anche perché non c'erano solo i miei genitori ma tutti i genitori anche degli amici miei non è che andava di moda come adesso tra virgolette almeno ortona avere amanti piuttosto che storie che uscivano fuori piuttosto che tradimenti io da bambino non mi ricordo nulla di tutto ciò ma vedevi delle coppie stavano insieme stavano insieme e basta non vedevi né grandi abbracci né grandi scene però si sa che stavano insieme e si facevano i figli questo era il non ho mai vissuto questo in quella linea lì da ragazzi invece noi da ragazzini mi ricordo che insomma sentivi che quello un po' più grande di te era figo se aveva tanti rapporti sessuali questo era un po' il mito degli anni 70 per i ragazzini quello che aveva che ne so il pix la vespa la piaggio che aveva più ragazze ok allora a 12 anni prima hai detto che hai scoperto volevi diventare un pornostano non ho capito se era dai 12 anni o a 12 anni hai scoperto la sessualità a 12 anni io ho scoperto la sessualità 11 anche 11 anni l'hai scoperta vogliere che era un tuo rapporto la masturbazione masturbazione anche 10 anni forse ma poi la vera sessualità l'ho scoperta col giornalino super sexy un po' come è raccontato nella serie ma anche prima con i giornali quelli che erano che non c'entra niente col porno però quelli che giravano dentro casa posto al market nelle ultime ok dove c'erano un po' di diciamo di prorompenze però voglio dire la vera sessualità legata all'idea di fare il porno star l'ho avuta il giorno in cui ho trovato questo giornalino da quel giorno in poi ho sempre detto vorrei fare questo allora entriamo nella carriera non è una carriera sei giovane la carriera arriva dopo ma entriamo in quel mood lì nel senso che abbiamo parlato di te adesso entriamo in quello poi voglio entrare nell'amore ci arrivo alla fine quindi da quelle pulsioni quindi dalla masturbazione dal postal market da super sex quindi dai giornalini come si evolve tutto questo si evolve con non c'è qualsiasi tipo di lavoro facevo cercavo di capire però cioè non mi interessava quello che sto facendo lo facevo perché sapevo che all'occasione l'avrei fatto sono arrivato a Parigi in cui mentre facevo il cameriere a Parigi perché i tuoi fratelli lavoravano lì facevo il cameriere e chiedevo a coppie o persone che vedevo un po' più alla mano ma dove si fanno i film porno questa era la domanda mio fratello che si incazzava mi dicevo la smetti di rompere le palle a tutti e intanto continuavo continuavo ricordo che a 13 anni chiesi a mio fratello a Parigi se si poteva documentare e a 16 glielo richiedo e lui mi dice ma sei proprio fissato cioè sei impazzito e quindi adesso se tu mi dici da dove viene io l'unica cosa che mi ricordo proprio quest'immagine di Gabriel Pontello che giravo la pagina con una bionda poi una bruna una rossa e poi tutte e tre ho detto no questo non si può cioè devo fare questo ma semplicemente così e quando è che approdi in quel mondo per la prima volta? la sera che dopo sei mesi che ero al 106 tu devi sapere che uscivo con una signora io avevo vent'anni diciannove ed eri a Parigi o eri? Parigi lei 46enne facciamo sesso e gli chiedo se mi accompagnava in un locale di scambisti perché mi avevano detto guarda qualche porno star l'ho visto nel locale di scambio e lei chiama l'ex marito e si fa dare un posto dove andava anche il marito e gli dice il 106 c'è Denise una sera arrivo lì con lei per me era il paradiso così come lo immagino e da lì dopo sei mesi che frequentavo quel locale arriva il tipo del giornalino super sexy in persona e mi fa fare una sorta di test che per me era l'esame d'ammissione il giorno dopo io ho mollato il lavoro del posto il test in cosa consisteva? fatto sesso davanti a tutti lì nel club nel club con una produttrice e un'attrice famosissima Barbara Der insieme ok e per lui è riportato a fare quella vita io gli ho detto demain je t'attends a Montrouge dal mio studio e ho iniziato e hai cominciato a vivere di quello o all'inizio era difficile facevi due vite parallele? allora ho cominciato a vivere quasi subito di quello perché mi ricordo che mio fratello mi disse in quei anni siamo? siamo quando fai quel provino 85 ok mi dice o con loro o con noi perché non puoi venire la mattina stanco pulire le formaggere tutto mezzo cadaverico e quindi appena ho iniziato diciamo che l'ho salutato qual è stata l'evoluzione? da lì in poi la tua carriera come va? chi è il primo che ti mette in quel binario che quindi non è più una cosa occasionale ma diventa la tua vita? come succede? è stato lui è stato Pontello portandomi in Italia mi fa incontrare Riccardo Schicchi con la quale faccio il mio secondo film Fantastica Moana era il primo film di Moana poi faccio tutti i film di Moana poi lavorerò anche con Cicciolina prima di entrare al Parlamento e poi io piano piano ho deciso di attraversare andare dove nessun europeo era mai riuscito a lavorare negli Stati Uniti quindi sono stato il primo attore europeo a andare lì come fai a creare il primo ponte? cioè come fai a succedere la prima cosa? faccio a succedere la prima cosa perché gli americani che venivano a girare in Italia e in Germania mi conoscevano mi avevano visto lavorare e proprio Freddie Lincoln e Patty Rhodes che erano i due produttori con la quale lavoravo molto mi invitano in America mi dicono you have to come to the States you will be a big star e da lì arrivano negli Stati Uniti mi portano negli Stati Uniti ma era difficile i primi tre mesi ho lavorato solo un giorno con loro nessuno mi faceva lavorare perché il mio inglese faceva anche gare e quindi mi diceva perché erano i tempi in cui c'erano ancora grandi dialoghi i grandi dialoghi e poi per loro lavorare con uno che veniva dall'Europa era gli americani sono abituati a vendere e non a comprare quindi dovevo convincerli eppure ero già bravo da noi cioè in Europa ero già Rocco Siffredi e stranamente avevo grandi difficoltà poi John Leslie mi dà un ruolo avevo fatto un film con lui molto molto bello e mi dà un ruolo importante e da quel film in poi che è praticamente Catwoman poi ho fatto Chameleon fatti tanti con lui addirittura Quentin Tarantino a Cannes era il suo primo film Cani da Rapina veniva a presentarlo viene sul set dove ho girato con mia moglie e bodyguard e mi dice io ero di Italian in Chameleon e lui era sconosciuto con le mani in tasca e ha detto ah cazzo ma vedi pure i film porno e mi fa eh come on qual è il momento della tua carriera ma la tua carriera vorrei che tu la raccontassi un po' fino in fondo in cui ti sei sentito più una star più una star vuol dire dove dici ce l'ho fatta veramente un po' come tu mi hai detto quando hai avuto una famiglia dove dici io come uomo lì ce l'ho fatta e nel lavoro qual è il giorno in cui ti sei sentito di aver fatto quello che mai ti saresti immaginato e eri fiero di te ecco sicuramente negli Stati Uniti la prima volta il primo Oscar americano il primo Oscar americano poi da lì li ho presi dieci anni di seguito perché vincevo sempre migliore scena di sesso ogni anno ogni anno ogni anno lì sicuramente perché gli americani sono tosti per convincerli e poi Cannes quando a Cannes durante la serata degli Oscar sempre abbinato agli Oscar perché vedevo tutte le tv che non vedo più oggi Oscar solo per chi non lo sa del porno perché sono in concomitanza erano in concomitanza col festival di Cannes per questo hai parato i Quentin Tarantino perché vi trovavate nello stesso momento su due cose parallele parallele e mi ricordo che c'era Tonino Pinto che era l'ex inviato dalla Rai tutti gli anni che era lì che mi intervistava ma non solo c'era la Rai c'erano tutte le tv del mondo ed eravamo un po' come il momento più bello in assoluto dove ti dico mi sono sentito figo e quando a Cannes vinco il primo anno miglioratore era il 92 92 perché l'anno successivo c'era anche mia moglie ho vinto di nuovo e c'era mio papà però quello è stato il momento magico perché c'era mio padre quando vinco l'anno prima dicono quest'attore qua non lo conoscete forse e si alza De Niro era seduto esattamente alla Croisette in una delle trasmissioni più belle in assoluto per loro durante il Festival di Cannes fanno tutta sta roba live super figa e presente c'era De Niro mi siedo io al posto suo e il presentatore aveva un po' di difficoltà a spiegare chi ero fa vabbè ha vinto l'Oscar del porno il primo Rocco Siffredi esco da lì io esco vado in giro per strada tutta la Francia sapeva chi ero invece prima di quel momento mi conoscevano solo nel porno ma nel porno porno perché non esistevano i social non esisteva il porno in tv esisteva solo il porno al cinema e qualche VHS iniziava non DVD VHS quindi era l'unico modo per farti conoscere tutto un tratto tutto il mondo io ho detto cazzo sono diventato anche io conosciuto questo è stato il momento forse più figo in assoluto hai detto che tuo padre era con te come ha preso tuo padre quella carriera i tuoi fratelli c'è stato un momento in cui sono stati orgogliosi hanno detto ma alla fine se questa è la sua vita lui è felice così molto tardi purtroppo all'inizio era più una critica ma all'inizio uno dei fratelli il più grande ha detto tu non toccherai più i miei figli soprattutto attenzione c'è stato un momento terribile in cui mio fratello più piccolo mi racconta che il mio fratello più grande è tornato e ha detto a mia madre non ti metto le mani addosso solo perché già stai male perché hai lasciato fare quello che ha fatto tuo figlio gliele ha lasciato fare non gliele ha impedito ecco questa cosa mi ha fatto molto male perché devo dirti la forza più grande nella mia vita me l'ha data mia madre forse se mio papà era contro non me ne fregava più di tanto mia madre no non avrei voluto mettere ancora anche io del dolore su di lei cioè già sofferto quindi lei ti ha incoraggiato non mi ha incoraggiato ma non mi ha mai criticato non mi ha mai detto perché lo fai tu quando gliel'hai detto ti vergognavi o eri tranquillo io non l'ho mai l'ha saputo non gliel'ho mai detto nel senso che non avevamo quel dialogo per dire infatti lei gli trovo ti spiego com'era scoperto che lo sapeva gli trovo un giornalino porno mio dentro il suo diretto vado da lei questo giornalino gli dico è questo e lei mi fa ma ma glielo metti proprio dentro ho detto no mamma non l'hai visto bene guarda che è di lato è lei che mi corre dietro come quando ero bambino con sta forchetta e che mi voleva picchiare ma tutto in maniera ironica e divertente questo è stato un ricordo bellissimo di un approccio in cui io parlo con mia madre di questo stessa storia con mio papà mio papà mi comincia a parlare di sessualità sua solo dopo che diventosi freddi perché per lui ero diventato un esperto di sé se non mi capisci tu che mi capisci se non parla niente e chi cioè e cosa ti ha raccontato lui sul sesso quando tu eri un esperto per lui che aveva avuto un rapporto con questa donna anziana lui era pur anziano e che ha detto mi ha fatto visitare tutta la stanza questo ha perso il marito e mi porta al soggiorno poi mi porta in cucina mi porta al bacco io ho il bagno quando sono arrivato alla camera da letto l'ho bloccata gli ho preso le mani e detto ma qua che mi fa che mi fa e quella fece sono 12 anni sono 12 anni che non succede più niente che dobbiamo fare e dice che lui a un certo punto ha cominciato a fare sesso questa strillava talmente tanto ma mi fa isoduta da un scaffatone e se te stai zitta che cazzo sta a strillare sempre è per calmarla e questo mi ha fatto talmente ridere perché mio papà mi parlava senza pudore cioè io come un amico sì però io ero in imbarazzo a sentire quello che mi diceva lui io ero in imbarazzo perché ho detto ma ha capito chi sono io perché io non ero abituato a parlare di questo con lui però poi in realtà è successo anche che io l'ho portato a prostitute ma io proprio perché poi viene fuori che papà non riconosceva più quella quell'altra quest'altra stava avendo l'alteria la demenza ha detto no secondo me voglio capirci meglio mio padre aveva bisogno di sesso è per quello che ti dico so da chi ho preso e da chi vengo quindi è tutta una storia un po' particolare io ti dico una storia nella mia vita sono stato dentro un mestiere in cui tanta droga tantissimo oggi c'è ovunque però io negli anni ottanta lavoravo con pornostar per droga intendi stupefacenti o per performare meglio nel sesso no no stupefacenti tutti che si facevano che erano mezzi fatti io ero negli anni ottanta in un mondo in cui vedevo tutto bello però poi sentivo quello si buca l'altro però ho sempre visto quella roba lì mai come un'attrazione perché ho detto beh lo fanno su cazzi loro a me non interessa cioè ho sempre tenuto l'animo di quello che approccia la sessualità per il fan il divertimento avere veramente dire ho trovato un lavoro dove mi diverto così come i ragazzi che mi vedono in giro che mi insomma mi vedono come un'icona dico Rocco beato te dove fanno i meme l'unico che torna dalle ferie e non e non è depresso perché tu devi lavorare sai sta roba qui nell'idea delle persone e con questo cosa voglio dirti io ho capito che non ho bisogno di farmi male nella vita quindi cerco di utilizzare solo le cose che mi fanno bene e quindi anche nell'ambito di papà ho cercato di capire di adattare lo stesso sistema se papà non sta bene vuol dire che ha bisogno di sesso quindi non è che bisogna limitarlo però poi mi sono reso conto guardando papà che questa sessualità così prorompente a 80 anni poi l'ha allettato l'ha messo in disperazione fino a 87 anni papà è morto disperato da solo con un totale abbandono a se stesso nonostante mia sorella se ne sia occupata però lui era depresso a un livello tutto questo legato alla sessualità perché? perché lui ha dato solo vita a quella roba lì è questo che non voglio fare io lì non ci voglio arrivare cioè io non voglio diventare schiavo della mia sessualità questo è quello che voglio dirti io sono convinto che se uno riesce a governare le proprie emozioni ma non solo proprio i propri impulsi chiamiamoli così e io credimi che con la dipendenza ci ho avuto a che fare per davvero non per scherzo dipendenza sessuale intendi l'unica dipendenza io non ho mai fumato mai drogato mai te lo direi non me ne frega niente io una volta mi hanno fatto fare un tiro di cocaina non so cosa mi hanno fatto tirare perché sono stato due settimane male quindi due settimane influenzato male vomitavo ho detto ma mai più in vita mia perché poi il problema lo sai qual è che la droga nel porno arriva come step alla sopravvivenza al sentirsi accettati dalla società questo è il male più grande che ci sono nelle povere ragazze che decidono di fare il porno per soldi per notorietà perché va di moda perché non hanno più voglia di lavoro non lo so perché oggi c'è sta moda di Only Fans con tutto quello che è le ragazze pensano che arrivano su Only Fans è tutto easy è tutto facile guadagnano tanti soldoni io ne vedo tante che poi vanno a comprarsi droga e poi antidepressivi e poi io dicono se uno ha la conoscenza lo eviti il problema io quando devo consigliare il porno dico sempre vocazione vocazione cioè se la sessualità vi appartiene fatelo vi divertite e dovete però mettere in conto che la società non è cambiata oggi ti dico la verità dopo 40 anni è peggiorata se vuoi sapere il mio punto di vista nel senso stai parlando nel tuo mondo dei film no io sto parlando di come siamo visti noi in generale è tutto finto il sistema è lì che volevo arrivare cioè tu comunque sei un figlio della pulsione vera verso quel mondo della vocazione del coinvolgimento e mi stai dicendo che oggi ed è lì quando chiedevo della droga della droga più per la performance vuol dire che le persone non hanno più quel trasporto emotivo nel fare sesso ma per loro è semplicemente il modo di guadagnare in quel momento e finisce lì non c'è più quell'alchimia se parliamo di quella roba lì è morta già da qualche anno è morta anche da qualche anno perché la 9 su 10 no 10 su 10 usano tutti le iniezioni quindi se tu ti inietti vuol dire che è stimolo naturale però non voglio parlare dell'iniezione come per dire non ce la fai il problema non lo sai qual è che quest'iniezione ha dato anche a chi aveva voglia di andare al naturale di non poterlo fare perché metterti tu naturale con tre ragazzi iniettati non ce la farei mai ma non ce l'avrei fatta neanche io oggi al naturale perché hai a che fare con robot è come se tu tutto un tratto vuoi competere con dei robot dove vai? io non ho mai sofferto sul set tu devi sapere che se c'è un luogo dove io ero me stesso era un set porno io fuori dal porno mi sento inadeguato cioè se tu mi metti in mezzo a persone che parlano di cose che non mi interessano per te la noia mortale noia mortale se mi metti cioè io ho bisogno di sentire l'umanità lo stimolo la persona io ho bisogno di quella roba lì se no non veramente diventa difficile cioè io sono forse forse sono nato strano cioè per l'amor di Dio ci sta è il discorso di prima sei tu e ti ami per quello che sei sono così giri ancora fai ancora film allora devo dirti la verità finalmente sono riuscito a chiudere bottega però ok quindi stai dall'altra parte totalmente dall'altra parte nel senso che sei un produttore da tre anni io produco dal 93 però sono tre anni io penso a 40 anni ho detto smetto e ho ricominciato dopo qualche mese per il discorso che mi facevi avevi bisogno di quella vita lì poi a 50 ho fatto lo stesso e ho ricominciato di nuovo dopo l'isola e ho ricominciato 55 guarda ho smesso realmente adesso forse tre anni ma forse dai due ai tre anni ma me lo dici perché ti senti in colpa di continuare a girare non mi sento in colpa mi sento in colpa di non essere stato in grado di fermarmi perché l'avevo deciso e il corpo ha avuto il sopravvento ma in una maniera terrificante nel senso che soffrivi soffrivo da morire sì durante la dipendenza io tornavo a casa uscivo io giocavo con i miei figli nell'età più bella che mi dicevano papà giochiamo torno torno mi inventavo delle stronzate inverosimili arrivo 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 poi facevo il giro delle sette chiese poi non è che andavo a belle prostitute io uscivo quello che beccavo quindi era complicato poi tornare a casa trovavi questi angeli con la mamma in mezzo una a destra una a sinistra che dormivano e io mi ricordo solo il dolore dentro ti sentivi sporco? sporco ero disastrato ma in una maniera terrificante è quella la parte cioè il problema più grave lo sai cos'è? c'è stato un momento particolare della mia vita c'è stata tutta una storia connessa io ho avuto un rapporto con un trans tanti tanti anni prima a Parigi perché a Parigi lavoravo al ristorante tornavo mi fermavo alla Bois de Boulogne e mi facevo fare il soffocon non andava proprio di moda il soffocon però una sera trovo una ragazza che cammina col pellicciotto biondina tutta simpatica diverso dallo stile classico e allora le dico me ti trovai e lei mi fa beh oui te gentil te joli sembrava insomma lei era diversa mi bacia cosa che le prostitute di solito non fanno mai mi bacia era carina mi dice te mignota fino a scoprire che non era una donna quindi psicologicamente quando riparte la parte della dipendenza io dove vado a cercare come hai detto prima tu non vai a cercare nella comfort zone io avevo decine di ragazze che potevo magari chiamare contattare dire senti non giro più vogliamo scopare no cercavo di farmi male cercavo di farmi male quindi dove andavo andavo abitavo a Roma e quindi andavo dove c'è non mi ricordo come si chiama dove c'è vabbè una zona dove c'erano praticamente tanti transessuali ok andavo lì li caricavo cioè più di uno no no più di uno significa la stessa sera a volte tre quattro ma non insieme uno dopo l'altro perché succedeva questo allora e io come entrava gli facevo scusa oh cazzo mi sono sbagliato ho da faccia non so perché non ti piaceva o perché avevi il senso di colpa senso di colpa non mi piaceva e non mi piaceva no era il senso di colpa cioè subito avevo che sto facendo ok facciano arci indietro però ero gentile tieni 50 euro volevi tieni questo quando eri già ero così freddi quindi guadagnavi già soldi sì 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 ma loro loro mi riconoscevano mi riconoscevano allora facevano qual è il problema eh cosa c'è e mi ricordo fino ad arrivare e gli ho detto scusa t'ho pagato non ti sto chiedendo nulla mi dispiace che c'è non ti piaccio cioè allora cominciavano testa di cazzo se una me è così eh una sera fino a questa sera è lì che io tornavo a casa e dicevo ma chi sei ma come come fai a essere così allora una sera una si tira fuori il tacco con la scarpa mi dà un'attaccata tra il collo e il braccio io oltretutto c'ho pure due protesi alle spalle alle spalle si mi ha dato un'attaccata forte qua mi ha fatto un dolore esce mi dà un calcione alla macchina io faccio marcia indietro lì era davanti che mi guarda io metto la prima accelero fortissimo e lei mi fa così col dito mi fa dai dai accelero 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 la volevo ammazzare cioè io ero dentro di me però non volevo ammazzare lei volevo ammazzare me questa è la verità ho messo la seconda e gli ho girato davanti cioè sono riuscito a sterzarli andavo via piangevo mentre succedeva tutto ciò cioè mentre io facevo tutto questo era un bagno di lacrime cioè tu pensa come sono tornato a casa mia a guardare i miei figli a guardare mia moglie cioè e poi tu mi dici controllo cosa si è diventato ma chi ha deciso che dovevo diventare in quel modo lì io avevo semplicemente deciso di smettere per i miei figli lo sai perché ho deciso di smettere perché un giorno mio figlio il più piccolino questo avevo 40 anni questa storia mi sa che non l'ho mai raccontata a nessuno ma pamma tu adesso e mi punta il dito in faccia tu adesso sexy lo fai solo con mamma vero? sexy lo fai solo con mamma quanti anni aveva lui? ci avrà avuto sette anni e io dico lo guardo dico ma certo ma certo e poi dentro di me ma che cazzo gli viene in mente di chiedermi sta roba e facevo ancora l'attore allora lì piano piano ho cominciato ad avere i miei primi passi verso la problematica che poi mi ha corroso per anni questo bambino che si vuole assicurare di proteggere la sua mamma perché questa è la protezione del bambino verso la mamma tu sexy lo fai solo con mamma vero? e capisci che poi tu dai un valore alle cose cioè tu dici qual è il problema di Siffredi? se Siffredi era un testa di cazzo ma papà sexy lo fa con chi gli pare è pagato tu mangi mangia mamma mangiano tutti non mi rompere il cazzo ma Rocco non è così il vero Rocco non è quella roba lì quindi ho detto deludere un bambino mai mentire un bambino mai quindi che faccio? smetto io smetto il problema è che io smetto ma poi ma il corpo ti chiedeva dell'altro il corpo la testa a un certo punto tu non sai cosa mi è successo la persona che più mi ha aiutato nella mia vita è stata mia moglie perché se avessi avuto una donna che non capiva cioè tu vai a raccontare a tua moglie che si è andato con non so cosa perché in realtà quando tu sei in quelle condizioni cerchi il peggio del peggio non è che vai a cercare perché non è la sessualità che ti interessa mi credi questa è una parte incredibile l'ho analizzata da solo non è il fan perché se io cercavo la bellezza l'amante avrei avuto mille scelte cercavo di farmi male allora lì che ho sempre cercato di capire perché hai cercato di farti male e quindi poi cioè oggi oggi l'hai capito? l'ho capito l'ho capito perché evidentemente mi sono sentito sbagliato ok solo prostitute o anche dei rapporti con donne che non lo facevano di professione? no no prostitute 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 solo prostitute prostitute sì sempre come affronti questo argomento per la prima volta con tua moglie nel senso che glielo hai detto lei lo sa no non glielo ho detto è successo un problema durante una allora quando io ho deciso di smettere mia moglie mi prende su una una call mi parte la telefonata io sto per far sesso con una tipa io l'avevo appena salutata gli avevo appena detto buonanotte muore da un bacione ai bambini chiudo siccome ho due telefonini sul set questa è bella perché sto sul set quindi uno dice però Rocco non fa più l'attore e c'era una situazione in cui tutti risalgono dopo cena è questa truccatrice rompeva le palle che ha Tonight I Feel e tutto il gruppetto degli attori ma che fa Rocco dai questa vuole te vuole il numero uno e tutta sta storia qui io dico ai ragazzi vi presenti tipo una cena e ci siamo manca il gelato manca il dessert ragazzi mezz'ora e andiamo tutti a dormire questo è stato il problema è che nel momento in cui mi sono ginocchiato per diciamo dedicarmi a lei prima di iniziare a far sesso è partita la telefonata e quindi cioè inavvertitamente inavvertitamente io ho sentito la voce di mia moglie che mi dice per fortuna che andavi a dormire e io ho detto non è possibile perché com'è possibile che parlavo spento e poi da lì in poi mia moglie è diventata una maschera per la prima volta ho deluso mia moglie questo succede quando faccio 40 anni due figli tutto è perfetto non ho mai avuto un problema e per la prima volta deludo mia moglie quando è che io inizio a deludere mia moglie ogni volta che ho cercato di dire cambio non voglio fare più Rocco Siffredi voglio essere Rocco ogni volta la deludo ogni volta che voglio essere Rocco e questa è la verità quindi succede questa cosa con la truccatrice per la prima volta Rosa viene a sapere viene a scoprire da sola di una liaison parallela è la prima volta che Rosa è davanti a suo marito perché ero suo marito padre dei suoi figli che ha mentito in cui pensavo che eri sul set a fare il regista hai detto che vuoi smettere cioè se vuoi smettere perché poi fai sta roba quindi lei non mi ha devo dire la verità è stata incredibile perché io torno dopo due giorni convinto di avere i bagagli fuori casa invece lei era lì era ancora più bella però era totalmente delusa cioè lì ho capito quanto fosse per lei importante la fiducia cioè io vivo per te tu vivi per me mi hai convinto col tuo lavoro sul set quindi ha accettato che tu facessi quel lavoro quel lavoro lì e su quello non c'è mai stato mai mai anche perché per come hai raccontato di quella vita non avresti mai fatto la scelta di fare famiglia o di sposarti una donna che ti metteva nelle condizioni di smettere corretto la prima cosa che ho detto a Rosa non mi chiedere mai di mollare il mio lavoro perché mi perderai gli ho detto subito 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 la sua risposta fammi un figlio cioè per dimostrarmi che lì era sincera che fuori dal set io sono la tua scelta sì e devo dirti che per un mese da quella sera da quella sera mi dava cioè mi dava i bacini ma a stampo mi dava i bacini a stampo ma solo se io andavo a cercarla si metteva sul letto e non mi cercava dopo qualche settimana adesso non so se era un mese esatto però qualche settimana ci ho provato di brutto e gli ho detto ok perfetto vuoi divorziare vuoi divorziare per una leccata di figa lei mi fa sì perché tu ho interrotto perché ti è partita la chiamata se no cosa succedeva ho detto ok se vogliamo divorziare allora è lì gli ho detto forse è un anno in un anno non lo so mille prostitute è lì si è seduta sul letto e mi ha detto chi stai dicendo gli ho detto questa è la verità e lei le mi ha detto tu hai bisogno d'aiuto quando gliel'hai detto in quel momento dove avevi un'enorme possibilità di perderla sì ti volevi infliggere ancora sofferenza perché ti sentivi in colpa allora hai detto a sto punto le dico tutto adesso perché credevi pensavi che ti potesse perdonare in quel momento ammettendole che da quello che hai appena raccontato sei andato con mille prostitute cioè perché gliel'hai detto in quel momento qual era il tuo scopo mentale il mio scopo mentale era se dobbiamo trovare una risposta devi prima sapere la verità la verità non ti voglio più mentire non ti voglio più mentire cioè o mi accetti o capisci il disagio oppure allora cioè se non lo accetti non lo vivi però questo sono io adesso in questo momento io sono dicendoglielo lei ha anche detto non posso farne a meno però gli ho detto così io in questo momento ho questo problema enorme guarda caso appena gliel'ho detto da lì in poi con mia moglie ci siamo ritrovati da lì in poi da vai hai bisogno d'aiuto fatti aiutare ti dico la verità da lì in poi ho smesso di andare da lì in poi è finito ma chi ti ha aiutato ti sei fatto aiutare o hai provato a farlo da solo con lei da solo con lei non sei mai quindi andato nel discorso di prima della terapia però qual è stato l'aiuto l'aiuto vero è stato che sono tornato a far l'attore ok cioè non è che sono andato ad uno psicologo sono tornato a far l'attore era la strada più facile probabilmente era la strada più non so cosa dirti e come dirtelo ma anche a livello imprenditoriale Rocco Siffredi ha sempre venduto Rocco quindi l'idea di mettermi a vendere Rocco senza Rocco mi faceva anche un po' paura anche un po' cioè lo notavi da un punto di vista anche di business prenditoriale di business complicato quindi tutto diventava complicato e si è scelta la strada più semplice cioè ho 40 anni ancora posso dare ancora un perché io poi negli altri step ho avuto altri problemi il primo è quello della dipendenza poi dopo ai 50 è arrivato quello dell'esistenza dell'accettarsi quello di dire qui mi sento veramente inadeguato cioè queste ragazze non dovrebbero far sesso con me dovrebbero farlo con i miei figli questo è lo secondo step di dipendenza per una questione anagrafica di età intendi? di età mi sono sempre sentito inadeguato io ho sempre pensato che la pornografia per la tua età o per le tue performance a 50 anni? no no sempre solo per la mia età oggi a 60 anni visto che hai detto che comunque stai ancora vivendo intorno al set hai le stesse prestazioni di te a 30 anni allora ti posso assicurare che non mi sto mettendo in prova quindi non lo so però se io dovessi pensare che mollo perché non sono in grado di fare quelle prestazioni ti direi una grandissima bugia non mollerei fino a 90 anni e ti dico perché perché ho mio padre come esempio che mi ha dimostrato che il problema non era la sessualità il problema è la testa il problema è come lo vivi cioè io ritrovarmi c'è un documentario che mi hanno dedicato i francesi in cui c'è un'immagine molto bella di io con due americane che mi fanno sentire figo ma io gli dico proprio e sinceramente gli dico mi senti inadeguato perché ho due figli di 20 anni voi dovreste stare con lui non con me e loro ridono e mi dicono yes but you are Rocco you are Rocco quindi Rocco senza età Rocco non non c'entra niente col corpo ecco tutta quella parte lì adesso ti dico senza presunzione tu sei amico hai conosciuto Massimo Massimo te lo può dire io ho figli è Massimo Bonera per far capire che ci guardano io ho ancora ragazze giovanissime che arrivano da me mi scrivono e mi dicono no I arrived too late you stop this is bad cioè sono arrivata tardi stiamo parlando di ventenni io dico ma quale sei arrivata tardi sono 60 anni per loro Rocco non è l'età allora io fra pochi giorni comincio a fare one more time in Francia io sono nato a Parigi è la mia prima lingua veramente e quindi mi sto guardando spesso un podcast che è il più famoso di Francia si chiama Legend Guillaume Play è l'intervistatore proprio per capire come funziona in Francia e guardo una sua puntata con Manuel Ferrara ah ok c'è stato Manuel dove parla tanto di te dove lui da abbiamo scoperto noi infatti lui pare che sia il pornostar più pagato del mondo non lo so non capisco niente sicuramente oggi lo è oggi lo è dalla Vixen ok e quindi fondamentalmente racconta la sua storia un po' più o meno come stiamo facendo noi più sul business cioè più sul suo vissuto la sua professione e a un certo punto lui dice non mi ricordo tuo fratello tuo cugino chi lavorava Gabriele è stato lui a portarlo da lui e dice che Gabriele lo scopre e a un certo punto tu lo vedi girare e dici io Rocco quando faccio un film l'unica scena che funziona è la mia e quindi però non posso fare tutte le scene io ho bisogno di altri attori maschili esattamente e che tu vedi lui la sua performance la sua prestazione e dici bene da adesso in poi farai tutti i miei film farai quelle altre scene che normalmente non vanno perché non ci sono io sarai tu ma lui ha parlato di te come una leggenda ma non solo per l'iconicità proprio come il dono che tu hai cioè nel senso quando tu parli di età di performance cioè per tutti tu non sei uno fortunato sei il più forte di tutti ma lì in quella cosa lì quella chimica di cui tu parlavi rispetto al sesso ti faccio una domanda perché in preintervista mia moglie che è la donna che ti ha preintervistato ti ha chiesto la differenza per te tra fare sesso e fare l'amore tu hai risposto semplicemente fai l'amore dove c'è il sentimento e laddove non c'è fai sesso quindi con un approccio differente e hai anche detto un'altra cosa che tu bene o male non sei quello che dice no stasera no ho mal di pancia cioè tu sei sempre pronto diciamo che sono sempre sulla linea del rispetto quindi se vedo che mia moglie quella sera ha voglia anche se non ero partito per in tre secondi ti accendi mi accendo però questo vale anche per il set nel senso che tu dici io posso fare sesso con chiunque quando entro in quella cosa lì mi scatta un fluido animale per cui quella è la mia benzina fuori dal set mi hai raccontato le cose rosa le mille prostitute hai smesso poi o lei ha accettato che tu potessi hai detto che sei curato con i film ritornando sul set ti bastava o hai dovuto no no mi bastava ok io ogni volta che ho avuto problemi solo ed esclusivamente appena mollavo il set sempre solo lì sempre solo lì perché in realtà diciamo che forse a volte dico che sul set mi diverto meno quando che ne so c'è una scena con dieci donne quindi tu dieci donne per fare la scena come si deve diciamo la verità devi fare tanto 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 lavoro e il divertimento è poco in realtà perché io sono una persona che poi è responsabile viene pagata c'è un produttore che è appuntato su di te e quindi io faccio molta attenzione a dare un prodotto al top e quando sei così tu il piacere lo limiti proprio e volevo arrivare lì però te lo porto in una vita parallela è una cosa che sanno in tanti perché io l'ho trovato in rete quindi come me l'avranno visto altri ne ha parlato anche forse Cruciani una volta la zanzara funerale di tua mamma è una cosa di cui hai già parlato quindi lo faccio no perché voglio capire nella testa cosa ti scatta la domanda non ho ancora capito neanche io cioè funerale di tua mamma una settantenne amica sua o di rimpettaia non me lo ricordo più sì sì è di rimpettaia di calza popolare di base ti fa le condoglianze vi abbracciate tu ti ecciti e succede una cosa io spesso nella vita prima di mia moglie ero molto selettivo nel senso che quasi cercavo più il difetto quindi non entravo mai in trans in quella cosa ma cercavo veramente la perfezione che non esisteva quindi non riuscivo come dici tu ad accendermi sempre subito e invece tu voglio sapere cosa ti scatta nella testa da dove parte l'alchimia ma in quella in quella situazione stranissima che è ben successo non è mai successo più in vita mia mai più è successo che io ero stato due mesi con mia madre in ospedale due mesi a vedere una donna che soffre due mesi a piangere e poi a cercare il sollievo quando è andata via il giorno dopo il funerale non durante il funerale perché questa è la verità sì sì scusami era in concomitanza no 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 ma nella serie sembra addirittura al cimitero e invece succede a casa sua lei mi chiama dalla finestra mi fa Rocco Rocco vieni su ti voglio salutare io devo ripartire e mi chiede di sedermi sulle sue gambe perché mi fa tu sei nato io ti avevo nel nel pannolone ti tenevo in braccio ti prego siediti sulle mie gambe e mi ricordo che era vestita anche le di nero e mi ha messo la testa e piangevo ed ero su ste tette sue ok adesso tu mi dici che ti è successo non lo so quello che so che non esiste il pompino non c'è stato mai c'è stato semplicemente un alzarsi tirarlo fuori venire con lei che mi guardava io uscivo imbarazzatissimo dalla stanza lei mi guarda come per dire non è successo niente tranquillo io l'ho visto come c'è chi mi ha dato una visione in tutto ciò e io sono convinto che sia questo dopo la morte c'è la vita adesso tu mi dirai e c'era bisogno di fare questo non lo so però c'è stato un momento d'eccitazione fortissima alla quale forse non ero abituato a resistere così tanto senza non lo so però sarebbe una giustificazione abbastanza banale io ti dico solo che c'è stato un impulso di sesso senza neanche farlo era proprio solo un qualcosa di surreale che mi è successo alla quale non ho cercato neanche tante spiegazioni io non ho mai visto questa roba qui come qualcosa di estremamente malata sì non che lo sia volevo capire nella tua testa quando fai una scena quando fai sesso magari dove duri moltissimo tempo e lì come un ragazzino al militare sei venuto subito c'è cosa ti scatta nella testa per non riuscire a controllare neanche è proprio questo ti dà la risposta il fatto che non ho controllato nulla è proprio questo è proprio perché non veniva da un lavoro psicologico in cui di solito sono abituato però è la cosa proibita che ti fa eccitare nel senso se tu guardi il corpo di quella donna non so se ti saresti eccitato comunque era più quella sensazione un po' come dicevi quando andavi a prostitute un po' deep quella cosa strana perché se tu ma la roba deep e strana a me eccita molto quindi devi sapere che se fosse stato allora io ti dico solo che il mio ricordo è che lei continuava a premermi e a farmi una pressione con le mani addosso a lei dolore non dolore mi dispiace non mi dispiace non lo so cosa sia sono solo che la reazione mia è stata quella lì perché ho percepito quella roba lì andiamo su Rosa come la conosci e quando e perché ti innamori di lei mi sono innamorato di Rosa da una Polaroid che porta il casting manager che mi doveva portare le ragazze a Cannes proprio l'anno in cui ho conosciuto Quentin Tarantino lei faceva quel mestiere? no lei era Miss Ungheria e io vedo la Polaroid in mezzo ad altre e dico portami lei lui mi dice no perché lei non fa porno portala gli facciamo fare qualsiasi cosa lei accetta ad arrivare gli avevamo detto gli avremmo essendo tu nato in Francia sai cos'è il Minitel certo Tronsiscans Minitel mi avevano fatto un contratto come il televideo italiano come il televideo mi avevano fatto un contratto Tronsiscans ero così freddi le abbiamo fatto dare un po' di volantini in giro a lei un'altra ragazza però appena arriva alla stazione ci vediamo ci guardiamo lei subito gira la testa dall'altro lato già quella roba lì mi ha fatto capire cazzo come la volevo personalità vera diversa io ho sempre visto da quella Polaroid e della purezza ho visto in rosa l'autenticità di una ragazza che non avevo ancora incontrato quel tipo di donna che dico autentica adesso tu mi dirai perché le porno star non lo sono il problema delle porno star è che tantissime volte nascondono ti fanno vedere questa personalità magari per sorprenderti per farti vedere super hot e io lo percepisco questa questa modalità un po' finta con lei no con lei era tutto chiaro era lei ho detto sarebbe fantastico e mi ero promesso di non innamorarmi di nessuna donna avevo appena iniziato la produzione era qualche mese avevo fatto solo un film prima di bodyguard e niente questo era bodyguard e sono rimasto il suo bodyguard quest'anno abbiamo festeggiato 30 anni di matrimonio esattamente il 7 di settembre cosa ha di speciale cosa aveva di speciale perché ti sei innamorato oltre alla purezza cioè che caratteristiche aveva se te lo ricordi ma le caratteristiche di Rosa non estetiche umane sì sì ma per me quando parlo di purezza ok inizialmente purezza attraverso la polaroid per qualche motivo non lo so questi occhioni da cerbiatto io l'ho sempre vista come una bambi una bambi da proteggere per me questo era Rosa ancora oggi lo è se tu vedi Rosa è una donna forte è una donna con una dignità incredibile non la vedrai mai piangere cioè io ecco perché ti dico quando la vedo piangere ho toccato io il fondo per far piangere lei e quindi questo più questo più questo mi porta a pensare io una volta almeno una volta all'anno gli dico ma che cazzo ci fai con me cioè tu sei una principessa e lei cosa ti risponde mi dice mi sarei annoiato con uno normale però lo so che non è la verità lei mi sono sempre detto che fortuna ho e lo sai quello è il gran problema dei miei figli vero è che hanno una mamma incredibile una mamma talmente perfetta che io vedo in loro una grande difficoltà perché ricercano la mamma in altre donne così vera sincera bella dolce attenti cioè vedono io lo vedo questo lo percepisco in loro e quindi mi dico che bello avere una mamma così ma se poi diventa quello il riferimento ciao i tuoi figli non gli hai dovuto mai spiegare il tuo mestiere l'hanno vissuto giusto ne avete mai parlato in età adulta loro dove sono venuti uno dei due a farti delle domande precise c'è stato un documentario fatto proprio dai francesi in cui gli fanno la domanda loro aveva il ragazzo Lorenzo 2016 ce ne ha 28 quindi si aveva 20 anni quindi Lorenzo il più grande sì aveva quindi 20 anni e gli dicono che pensi di tuo padre della scelta io ero lì col cuore che batteva 10.000 non ne avevo mai parlato penso che papà sia fortunato perché è riuscito a fare quello che sognava e l'ha fatto veramente bene e devo dire sono orgoglioso anche di lui e come papà cioè mentre lo diceva io piangevo e questo è la risposta all'amore che ho nei confronti loro di mia moglie perché mi hanno dato una completezza da uomo che non mi sarei mai aspettato cioè io con la scelta di vita mi sono detto mi diverto me le scopo tutte mi faccio il carico per tre al di là cioè quando si dice dovrei vivere tre vite perché all'epoca tu dai all'epoca a quell'età tu cosa dai come importanza quello che è con la quale cresci cresco con sei figo se te ne scopi cento questa è un po' la mentalità e quindi poi invece mi rendo conto di quanto invece io abbia avuto di più ma molto di più della vita grazie a Rosa grazie ai ragazzi ed è per questo che io sono diventato un po' un padre come dici tu Rocco ritirati su perché devi dare invece un altro esempio perché mi sciolgo davanti a loro davanti a tutte e tre ma mi sciolgo e subisco terribilmente il pregiudizio su di me nei confronti loro questo mi uccide ad esempio quando mio figlio Lorenzo che io non riuscivo a parlare a ballando ma non riuscivo avevo il cuore spezzato ma la gente che ne sa io sono stato a casa questo ragazzo che era sdraiato e che sentiva la stessa canzone tutti i giorni del cuore spezzato non mi ricordo chi era il cantante ma era una canzone e io sentivo e lui era sdraiato e non viveva per amore e il figlio di Rocco Siffredi 13 anni con una ragazza la donna della sua vita se la deve sposare e poi genitori che fanno di tutto per farli lasciare perché tutto un tratto il padre anzi la mamma si rende conto che Rocco era famoso arriva uno zio il fratello del padre inglese e fa Rocco that Rocco e mio figlio fa I think yes it's my king e allora la mamma rifà il calcolo e dice ma tuo padre è così famoso sì e da lì è iniziata una battaglia contro la figlia ma se io ti facessi vedere cosa hanno fatto i genitori a sta ragazza hanno preso i miei dvd quelli più strong dove io proprio do il massimo di me stesso nell'atto sessuale anche strong violento forte e gli dicono questo è quello che ti succederà la ragazza a un certo punto litiga con mia moglie e mia moglie mi fa sta andando fuori di testa e io gli dico che succede Laura lì mi fa secondo te è normale filmare ragazze che fanno pompini per me sì gli ho detto per me sì non capisco quale sia il tuo problema qui ma io sapevo il lavaggio di cervello che gli facevano e mi ricordo c'è stato un momento nella mia vita in cui mio figlio Lorenzo uguale alla madre identico molto molto under control allora io mi rompo il cazzo prendo il telefono e chiamo il padre davanti a lui davanti a lui Matti eh Rocco è vero che vuoi i nostri figli per split in modo che i nostri figli si lasciano sì in viva voce io sento solo un gemito questo se tu mi davi una cortellata mi facevi molto meno male io sento questo gemito di mio figlio questo dolore fortissimo tu non sai io pianto sono stato male ho detto ma perché cioè e poi vai a rimettere tutto e spiegare ai signori di ballando perché si freddi e felice dopo il yes del papà di lei Laura giusto? sì cosa rispondi? come continui la conversazione? si è arrabbiato? no no molli? no ho detto senti il gemito di Lorenzo di Lorenzo chiudo ok ok che gli dico? no non sono quello famoso oppure che gli dico? mi giustifico che gli dico? sei una testa di cazzo che c'entrano questi due ragazzi con noi che gli dico? che gli posso dire? ho dovuto accettare e ho dovuto accettare con tutti i i pensieri che vengono dopo come reagirà a lui? cioè tutta sta roba qui mi odierà perché sono stato la causa capirà capirà che la vita lo sai che a volte mi dicono io mi dico nella vita non scegliamo non scegliamo nasciamo figlio di quello di quell'altro e a volte mi dico però loro non hanno scelto cioè loro si ritrovano devo devo far qualcosa in più devo dare quel qualcosa in più perché non hanno scelto loro e quindi e sono questi io li chiamo purtroppo i miei demoni i miei sensi di colpa i miei e poi è così non so sono questo non riesco non riesco a loro i ragazzi mi dicono papà 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 io lo so che mi vogliono bene e lo so però io dentro di me è come se mi prendo tutte ste colpe perché mi dico l'avrei dovuta gestire in maniera diversa non lo so che dovevo avere un figlio che era peggio di me che se ne scopava a dieci al giorno se eri stato più orgoglioso no io sono orgoglioso dei miei figli perché non sono come me perché hanno cioè se erano come me perché lo erano per davvero magari li li indirizzavo anche meglio ma visto che sono molto diversi da me molto diversi da me per me è un motivo d'orgoglio bellissimo però allo stesso tempo non è facile siamo quasi arrivati in fondo ti faccio una domanda sui soldi ne parlo raramente ormai da tempo che non lo faccio più però tu ovviamente con la carriera che hai fatto immagino che tu abbia no te lo domando perché c'è una cosa bella che mi piace io non amo molto chi ostenta il denaro e tu da essere nato in una famiglia normale dove comunque hai cominciato a lavorare per contribuire per dare come dire il tuo supporto alla famiglia quindi non erano ricchi per cui non ti hanno insegnato perché non lo sapevano a gestire delle somme di denaro che non sono banali quindi immagino che con il tuo lavoro tu sia diventato milionario perché sono decenni che sei una star in tutto il mondo devo deluderti no no non mi deludi te lo domando ma non per sapere il tuo conto in banca ma per sapere il tuo approccio ai soldi no allora che io abbia avuto la possibilità di avere tanti soldi in mano è vero è vero ma niente a che vedere con quello che hanno guadagnato oggi chi si è messo su internet io ho fatto il produttore nel periodo in cui si producevano i master quindi si vendevano i diritti invece chi è riuscito a creare la propria piattaforma quindi free site quella roba lì lì è quello che dici tu milionari ma a livelli surreali stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari io ti dico la verità ma senza fare quello che è vuole far finta perché io comunque ho guadagnato tanti soldi ho comprato uno studio a Budapest ho varie case quindi questo non è il punto il punto è che il rapporto proprio con i soldi anche se ce ne avessi tanti di più di quelli che ho sarebbe sempre identico come approcci al denaro cioè come gestisci il denaro non dove investi ma cosa insegna i tuoi figli rispetto ai soldi il che oggi ce li hai e domani non puoi averli la prima cosa in assoluto quindi risparmiare il valore no il valore dei soldi c'è che non si butta niente io sono ancora un po' se si ordina se si ordina a pranzo o a cena non ordinate di più se non lo mangiate io sono un po' ancorato guarda ti giuro all'inizio con mia moglie mi arrabbiavo lei ordinava di più perché non capiva se gli piaceva quel piatto piuttosto che l'altro ha visto che mi arrabbiavo non lo so questo è un difetto di fabbrica ho visto troppa fame e quindi odio quella roba lì lo spreco sì lo spreco ma devo dire che i miei figli sono veramente carini mi hanno mai chiesto mai mai papà voglio la macchina così voglio la moto qua voglio là sono sempre io mi dice mia moglie che esagero a voler dare qualcosa in più qualcosa in più un po' come per dire tu non ce l'hai avuto e almeno ce l'hanno loro imprentervi sei raccontato di un momento in cui hai perso la fede raccontando quasi un aneddoto che faceva ridere di una persona piena di feci di escrementi però non l'ho ben capito non so se voglio di raccontarlo non è che faceva ridere ma ha fatto piangere no no lo immagino e faceva quasi ridere sentirlo per il modo in cui lo stavi raccontando sapendo che tu invece l'hai vissuta al contrario ovviamente io l'ho vissuta molto 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 male ma tanto male perché praticamente è un giorno di ordinaria follia in cui sei nel tuo hotel esci hai un appuntamento devi sapere però che questo racconto poi racchiude anche tutto il mio stato d'animo odierno interno è odierno cioè oggi è un problema molto più grande a livello umano che avevo qualche anno fa è diventato molto difficile per me gestire la mia persona con la gente cioè non riesco più ad avere quella pazienza che avevo prima e questa è la risposta quando tu incontri quest'uomo che era pieno di feci tu stavi andando un appuntamento in cui ti devono prelevare per portarti a era il comics di Milano ero ospite ok e devono portarmi lì quindi meno che troppo ti veniva a prendere mi raccomando in tempo lì io però volevo salutare anche mio figlio quindi a piedi mi dirigo verso mio figlio qui a Milano esco dall'hotel e a 100 metri dall'hotel trovo questo signore vecchio anziano molto molto vecchio tutto piegato su se stesso che stava pieno di feci ma io mentre camminavo veloce stavo parlando con un amico in Sardegna mentre parlo con lui ho detto no aspetta questo mi fa scusi mi chiami l'ambulanza per favore mi chiami l'ambulanza mi chiami l'ambulanza io lo guardo e dico non è possibile quello che sto vedendo prendo il telefonino e faccio esattamente tutto quello che mi fa schifo ma lo faccio prendo il telefonino lo filmo e gli dico ma che ti è successo e lui mi fa mi chiami un'ambulanza gentilmente mi sono cagato sotto ma era pieno ovunque ma perché lo filmi lo filmo perché lo mando subito a quest'amico mio in Sardegna per dirgli guarda come cazzo siamo messi nella vita di oggi guarda che brutta storia chiudo il coso e chiamo il Niguarda e chiedo l'ambulanza per il signore però allo stesso tempo c'è mio figlio che mi aspetta quindi chiamo il Niguarda e mi dicono non mandiamo le ambulanze per qualcuno che si fa la cacca cioè per chi ci ha preso chiami il 118 ma io devo andare di corsa ho detto a lui non ti preoccupate arriva il 118 entro nella macchina mentre sto andando al comics e al 118 mi dicono lì è lì è un barbono no non sono qui ha detto no se lì è lì che sta lì se ci assicura è praticamente passa qualche ora quindi non viene l'ambulanza no io non so cosa è successo io sono andato via io sono tornato lì la sera e già tutto il pomeriggio cominciavo a star male cominciavo a star male e ho cominciato a star male la notte perché ti sei sentito di non essere stato umano in quella condizione zero umanità zero umanità zero umanità ho detto io sto perdendo l'umanità e tutto questo avviene perché perché io esco da casa in Italia corro col telefono in mano sempre perché non riesco più a fare due metri a piedi non riesco più è un continuo perché la gente ti ferma ti ferma di continuo foto 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 e allora dentro la mia testa anche negli aeroporti ovunque dove vado dentro la mia testa è diventato molto difficile molto complicato gestire tutto questo e mi sta portando piano piano a perdere l'essere me stesso cioè io avrei dovuto fermarmi prendere questo vecchio portarlo sopra in stanza e lavarlo questo sarebbe stato il minimo per farmi sentire umano non una brava persona umano almeno vai su prendi un asciugamano cioè era pieno pieno ovunque e poi la sua voce normale persona educata che mi chiede e ti dico la notte io ho sognato ecco perché ti dico i demoni è come un sogno avevo da ragazzino che mi diceva lo stesso personaggio lo stesso vecchio che si è avverato lì io lo sognavo e mi diceva non ti preoccupare perché a te ci penso io ti aiuterò io e per me quello è stato un segnale che a 60 anni io rivedo quel vecchio e che mi chiede aiuto adesso e io non sono più in grado di aiutarlo ma non perché non sono più in grado perché la mia testa non mi fa vedere più la difficoltà del vecchio lo vedo come se fosse uno dei milioni che abbiamo per strada senza un aiuto senza qualcuno che è come se tu diventi quello che odi tu stai diventando un uomo che guarda ma non vede cioè tu guardi ma non vedi però per fortuna che la mia coscienza mi ha fatto vomitare mi ha fatto piangere mi ha fatto star male sono stato molto male sono stato molto male dopo questa cosa qui perché ho capito però sono stato talmente male che è diventato un po' complicato anche gestire la mia vita fuori oggi in giro cioè oggi in giro comincio ad avere veramente delle difficoltà a capire come devo reagire con la gente normale sta diventando io lo sai qual è il mio vero problema non vado e non riesco ad andare in giro col berretto occhiali e mascherina io voglio vivere voglio essere me stesso voglio essere libero voglio essere libero oggi non sento più la libertà quando ti fai un esame di coscienza come dopo l'episodio di questo signor anziano oltre a sentirti in colpa dagli cambi cioè sei consapevole che per il tuo DNA non sei stato umano ma tu sai esserlo e quindi lo diventi dal secondo dopo in poi o vivi la sofferenza e il senso di colpa ma non riesci a farlo no 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 riesco 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 però il problema grave che ho riesco però non è connesso al vecchio solo è connesso a me stesso cioè io prima di arrivare qua ho litigato con mia moglie all'aeroporto perché mi fermo e ci sono 50 persone che mi chiedono di fare le foto e lei mi comincia a insultare non ti puoi fermare con tutti e io l'ho guardata e le ho detto mi dai una mano o no o ti ci metti anche tu darti una mano vogliere capirlo sì a capire che qui la situazione è complicata si è molto complicata o diventi umano all the way oppure non riesci più a capire a scendere le situazioni e mi succederà di nuovo quello che appena detto quindi preferisci essere aperto al mondo con tutti ogni giorno e sempre e basta e basta ma non è facile non è facile credimi non è facile perché ti tiri dietro delle persone che invece ecco di nuovo loro non hanno scelto non l'hanno scelto però per starmi a fianco quindi infatti ho detto a mia moglie amore facciamo così tu parti col tuo aereo io parto col viacciamo separati perché se non ce la fai sopportare questo purtroppo il mondo sta diventando così e la gente non è più come una volta Rocco posso fare una foto cazzo sei un mieto sei no ma ti chiedono foto per non si sa per cosa semplicemente perché i social quello che sia però ripetuto l'ennesima se tu dici sono meno educate rispetto a un tempo sono più cento milioni di volte peggio sempre peggio sempre peggio sempre peggio e credimi dopo un po' tu perdi tutto il questa cosa di farti comunque sentire che sei sempre presente nella vita di tutti nel senso che ti riconoscono quindi c'è un valore poi tu sei molto cross sulle generazioni no anche i quindiceni di oggi sanno chi sei è un po' una benzina per darti valore come uomo e sentirti amato credi che quando non succederà più ne soffrirai o no sinceramente sinceramente vuol dire ascoltandoti sì ma guarda in realtà c'è come si dice bicchiere mezzo vuoto questa roba qui nel senso che certamente non ci sono ancora arrivato alle persone che ti ignorano non ho mai avuto insulti anche in Ungheria dove vivi sei famoso ti fermano sono molto famoso non andando in tv non vengono a chiedermi nulla ogni tanto qualcuno con molta discrezione sorry mister ok qui è la tv che non è quello che fai è quanto sta in tv ma adesso non voglio fare quello che è tutto un tratto è diventato allergico a farsi due foto il problema è questo più questo più questo mi ha portato a scappare da quell'uomo e l'ho vissuta molto 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 male molto male e non vuoi che si replichi quindi sei disponibile con tutti sì 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 non si può cioè non si può e questa parte qua un po' è complicata da gestire prima dell'ultima domanda voglio parlare con te di una cosa che ti riguarda io non faccio promozione di nessuna né di un'uscita di un album né di un film né di nulla faccio promozione dell'anima delle persone che si siedono qua ma perché faccio questo preambolo perché tu andrai a teatro in preintervista e mi è dispiaciuto hai detto io sono Rocco Sifredi sono una persona che comunque insomma in tante cose è risonante e come dire ha portato a casa il risultato oggi farò una serie di teatri in Italia e sto faticando a vendere biglietti molto molto però perché nella testa di una persona dice ma perché devo andare a teatro nel senso cosa mi porta in più e secondo me porta in più esattamente quello che hai spiegato in due ore e mezzo con me la tua umanità vorrei che tu lo raccontassi cosa porterai a teatro perché cercherò di fare uscire la puntata ma saremo ridosso dalla tua data all'Arcimbolli che è il 29 il 29 di ottobre ma io volevo chiedere a te te lo spiegherò ma volevo chiedere a te tu che idea ti sei fatto sapendo che mi conosci che sei la mia popolarità e che bene o male la serie è stata la più vista italiana e tutti sanno chi sono tu che idea ti sei fatto perché se io vedo troppo visto ti faccio un esempio io andrò all'Arcimbolli è la prima volta che faccio un teatro in vita mia e mi cago molto anche sotto il 9 di ottobre quindi ormai mercoledì prossimo bravissimo quello è stato però figlio di un prosieguo di quello che tu stai vedendo adesso quindi le persone che verranno hanno capito cosa porterò a teatro che porterò almeno quello che stiamo facendo insieme almeno un'intervista e la mia umanità parlerò dei miei argomenti del non giudizio e tutto quindi chi ha comprato un biglietto capiva per cosa lo stava comprando se io vedo dei manifesti come vedo in città quindi se hai comunicato bene vedo Rocco non lo comprerei ma non perché non mi piace perché dico cosa mi aggiungi cioè per me Rocco è il mito di quel mondo e lo guardo in tutte le sfaccettature di quel mondo quando Borghi fa un'intervista su YouTube per dire il rapporto con te quando c'è la serie su Netflix mi vivo Rocco lo cerco di conoscerlo sempre meglio lì perché a teatro non so cosa farai secondo me questo è il pezzo che manca va spiegato non sai cosa farai nel senso che tu pensi che le persone no io non ho idea quindi allora desisto sto parlando in generale ma se tu lo raccontassi usassi i tuoi social per dire cosa farai a teatro ma sono sicuro che saresti in sold out in 48 ore ma purtroppo non è successo ma l'ho spiegato ma come in più in più momenti ho spiegato spiegalo qui cosa farai a teatro ma vado a raccontare la mia vita in maniera sincera come ho sempre fatto però in una sorta di allora un'ora e mezza di monologo accompagnato da foto video in una bellissima presentazione teatrale fatta di luci di immagini di momenti di audio fatto come si deve dove racconti veramente l'intimità tua tutto quello che mi hai chiesto adesso fatta anche però di momenti leggeri con leggerezza non cupi perché il problema più grande di quello che secondo me viene fuori dalla mia persona che ogni volta che mi si racconta mi si racconta col disagio è come se Rocco per aver fatto tutto quello che ha fatto ha dovuto soffrire e basta mio cugino Gabriele che fa parte del teatro che sarebbe quel personaggio che tu prima hai nominato mi ha odiato prima di morire Gabby mi odiava perché mi ha detto ma è possibile che tu ti sei dimenticato i 30 anni passati insieme sui set in tutto il mondo a ridere divertirci e grandi chiavate allora la mia domanda è questa è normale che non mi sono dimenticato ma ogni volta che lo racconto preferiscono non sottolinearlo preferiscono far vedere solo la parte di disagio perché visto che tu sei molto bravo a entrare nella psiche perché interessa tanto il disagio e meno il fan e forse anche uno dice non vogliamo glorificare uno che ha fatto fortuna e si è fatto il nome facendo sesso non lo so io cerco di capire c'è ancora tanto bigottismo forse sì vuoi sapere la mia risposta reale? forse c'è non è solo la parte di cosa ho capito per me c'è ancora io porto Siffredi a teatro mia moglie vado a vedere Siffredi mi devo vedere qualcuno a fianco che dice ah guarda questa ha portato la moglie a vedere Siffredi saranno scambiste saranno maialini ma possiamo arrivare a questa nel 2024 ancora così ed avere la pornografia ovunque su tutti i telefonini ovunque c'è il mio pensiero c'è anche il mio pensiero di quello che penso del porno c'è il mio pensiero e la sincerità nello spiegare cos'è il porno oggi e cos'era negli anni 80 faccio fare anche un po' di giri su anetodi personali mai raccontati prima l'unica cosa vera è che è tutto sincero e poi c'è una ciliegina sulla torta che è mia moglie che viene fuori a spiegare chi è Rosa e come c'è finita nelle mani di Siffredi ma soprattutto spiega che significa essere la moglie di Siffredi e devi sapere che questa è una storia abbastanza diversa sale sul palco o fa un video? sale sul palco sale sul palco e devi sapere che mia moglie poverina poverina io l'ho tirata dentro dopo un litigio perché mentre scrivevo ho fatto 25 versioni perché le prime versioni duravano 4-5 ore l'ultima versione per arrivare a un'ora e mezza mia moglie mi chiede di leggere leggo e ci sono due parole che non gli piace dove anche io porto papà in una strada dove anche io andavo quando ero dipendente e lì mi chiede è importante raccontarlo ho detto amore qual è il tuo problema? è importante per me quella è una ferita aperta l'ho chiusa ma è sempre lì tu non me la devi ricordare non vuol dire che non ho sofferto io ho dato una botta al computer ho buttato tutti i fogli per terra ho detto io sto scrivendo la mia vita da raccontare sul palco e mi stai dicendo che questa roba qua non la vuoi? cioè questa roba qua fa parte della mia vita ma questa roba qua mi fa male mi ripete allora prima sono andato fuori di testa in escandescenza da solo ho detto non lo faccio più basta chiudiamo sta storia io non riesco ad essere metà vero e metà finto non ce la faccio ho un problema non riesco allora se devo essere uno che si controlla non lo facciamo più non ci parliamo tutta la sera e io tiro fuori un testo di tutto quello che sono io vai sul palco e di chi è Siffredi questo sono io sono questo mostro qua e questo è il primo step poi questa parte del mostro dove io mi auto denuncio una persona che non ti merita tu sei una donna cioè tutta questa parte qua lei lo prende lo strappa lo butta è detto tu non sei questo tu sei quest'altra cosa qua e se lo scrive però ha scritto esattamente tante cose molto molto vere cioè molto veramente la sua vita che una volta che è arrivata con me tante ma abbiata te sei la moglie di Rocco volete sapere cosa vuol dire essere la moglie di Rocco e lì fa tutta una denuncia molto vera sincera e devo dire che la ciliegina sulla torta super apprezzata noi abbiamo fatto qualche tour estivo non c'era tanta gente purtroppo avete già testato due o tre posti però chi c'era si è complimentato si è complimentato per la sincerità per la storia e soprattutto tua moglie incredibile allora prima di farti l'ultima domanda non risponderò alla domanda che mi hai fatto prima rispetto al fatto che ci sia bigottismo meno sull'argomento ma provo a farti una domanda per aiutarti a dare un buon motivo alle persone di venire su questo tavolo c'è un libro è il mio libro il primo di One More Time cosa faccio lì io racconto spesso di me se la persona che è di fronte a me mi racconta un qualcosa che mi ricorda un pezzo della mia vita mi aggancio a quella cosa e aggiungo un pezzettino quindi qua ho preso dieci storie su 150 interviste quindi dove c'hai Saviano dove c'hai Gianluca Gotto Dani Camori e ti cito Dani Camori perché fa parte del tuo mondo ma per un esempio preciso Dani Camori parla d'amore dice alla fine quando hanno scoperto quello che facevo io me ne sono dovuto andare perché la mia prima scelta era vivere con Stefano con Steve con il mio uomo io volevo vivere la mia sessualità e la mia storia d'amore i miei genitori mio papà aveva 26 anni in più di mia madre mia madre era ancora minorenne la fa rapire lei consenziente la fa portare a Parigi in una macchina dalla Brianza in Italia quindi io lì di cavolo dico quella è una storia d'amore esattamente potente diversa ma esattamente come è stato per i miei genitori quindi mi ha permesso di raccontare dei lati inediti di me e di fare in modo che le persone che comprano questo libro abbiano un manuale d'amore perché di questo parliamo quindi ho spiegato questa cosa rispetto al libro e ho dato un motivo al lettore interessato all'argomento evidentemente ma gli ho spiegato perché io lo comprerei adesso ti ho fatto un piccolo esempio ma potrei parlartene per un'ora e mezzo di motivi per cui questo libro non è un libro che leggi e metti via lo riapri ti riprendi quel passaggio sul perdono ci sono degli elementi allora la domanda che ti faccio è questa perché una persona adesso mi hai detto cosa farai mi hai detto che ti aprirai ma hai detto che sarai inedito mi hai detto che porterai tua moglie però voglio sapere perché uno dovrebbe comprare il biglietto perché è una sincera storia d'amore questo è quello che volevo sapere è una sincera storia d'amore ma sincera 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 perché Rosa quando mi ha conosciuto non ero neanche ricco ero famoso ma neanche perché poi i soldi li davo a tutti a casa alla famiglia cioè non mi fregava niente di me stesso coi soldi quindi quando mi ha conosciuto non sapeva neanche chi era Rocco Siffredi Rosa però la storia d'amore era ed è autentica questa è l'unica cosa che posso dirti e la risposta non alla tua domanda ma alla vera domanda perché le persone dovrebbero venire perché tu gli dovresti spiegare questo nel senso che secondo me hai promosso la data ma non hai raccontato il DNA del motivo per cui tu lo fai perché vuoi parlare di una grande storia d'amore e poi mi piace il fatto di farlo insieme finalmente di condividere con tua moglie un percorso nella tua vita questa è sicuramente la cosa più bella ma lo sa Paolo Paolo Ruffini è una persona il produttore certo è la persona più indicata perché è una persona super sensibile lui l'ha accolta all'istante lui l'ha accolta all'istante adesso comunicarla speriamo di riuscire all the way come si deve io non lo so non sono un gran comunicatore però parla di questo accendi il telefono fai una storia e parla di questo sinceramente non devi vendere lo spettacolo non devi promuovere lo spettacolo devi dire che hai voglia di parlare d'amore ma guarda posso dirti io ho fatto una live che è ancora sul mio profilo il mio profilo non è funzionante lo sai perché? perché il profilo Instagram sì ci sono 650.000 followers veri ma io non gli do nulla perché non sono una persona che è lì tutti i giorni i miei figli mi dicono papà dovresti e dico ragazzi ma non riesco perché non sono io allora ogni tanto faccio qualcosa ho fatto questa live in cui ho chiesto ai ragazzi ragazzi ho promesso a mia moglie di festeggiare i 30 anni di matrimonio glielo devo all'Arcimboldi vi prego venite ma non è che cioè mi sono piegato mi sono ginocchiato ho detto io sono pronto a prendere una tabella e andare davanti alla stazione centrale di Milano e dire venite all'Arcimboldi da un lato e dall'altro lato magari ci faccio la solita battuta se no vengo a casa vostra e finì però è proprio per dirti quanto sarei felice regalare questo momento a mia moglie se lo merita tutto tu mi dirai ma è per te o per tua moglie 99.9 virgola 9 tutto per Rosa è una piccola percentuale di soddisfazione ma soprattutto il fatto di farlo insieme per me questa è la cosa più bella poi tutto il resto come dici tu si mette a posto ti faccio l'ultima domanda e ti voglio chiedere come stai qui ed ora in questo periodo della tua vita il tuo bilancio personale emotivo non molto bene argomento un po' di più dai non molto bene nel senso che giorni contento giorni meno contento però diciamo che ecco mi sto concentrando su come ti dicevo prima sui ragazzi aspetto di diventare nonno cerco di trovare nuovi stimoli sai cos'è che io ho bisogno sempre di stimoli e quando c'è un appiattimento diventa per me diventa deprimente vado in depressione diciamola tutta l'appiattimento a me mi uccide quindi stimoli mi danno io sono uno un fighter uno che gli piace mettersi lì lavorare fare mia moglie mi dici tu tu se non lavori muori purtroppo sono così vuoi chiudere in bellezza avrei dovuto scopare tutta la vita allora sarei stato sorridente forever grazie vi ringrazio per essere arrivati fin qua fino alla fine di questo episodio che spero vi abbia restituito stimoli delle belle vibes vi siate identificati medesimati e vi abbia potuto dare degli strumenti per potervi riconoscere per poter andare avanti per poter cadere meglio qui intorno a me vi suggerirò sempre alla fine di ogni episodio delle altre interviste affini all'argomento che abbiamo toccato buona visione grazie a tutti grazie a tutti